e con la mia collega Anna ci divideremo la presentazione in due parti, la prima parte la farò io, poi Anna subentrerà a me e spiegherà nel dettaglio più o meno quello che io ho anticipato, lo spiegherà nel dettaglio di Iris, quindi come si fa in Iris. Prima di cominciare vi porto i saluti di Giovanni De Simone che avrebbe voluto fare personalmente ma è in viaggio e quindi non è riuscito, non riesce a collegarsi. Giovanni vi ringrazia tutti e vi saluta, ci augura buon lavoro. Quello che volevo dire prima di iniziare è che noi non abbiamo idea del livello di preparazione su questi argomenti, di conoscenza, delle persone che partecipano, quindi ci sono delle persone che conosco e so per certo che avrebbero potuto tenere il corso insieme a noi perché ne sanno abbastanza, quindi ci sta che magari sia a noi in un po', però diciamo noi abbiamo cercato di dare indicazioni abbastanza precise, dettagliate, di scrivere molto anche nelle slide, cosa che di solito non si deve fare, però considerando che poi il materiale rimane a disposizione ci è sembrato utile cercare di spiegare i concetti meglio che potevamo in modo che possiate prenderne visione anche successivamente. Direi di partire, io condivido il mio schermo con e poi vado in presentazione. Ecco dall'inizio, non so perché non è andata dall'inizio ma tanto vado indietro e buonanotte. Mi riposiziono perché, ecco Giovanni, Giovanni allora ci sei, io ho portato i tuoi saluti ma mi fa piacere che sei riuscita a collegarti. A questo punto più che altro rompo l'anima, mi rendo comune. No, figurati, guarda, io ho aperto già con la presentazione avviata, quindi ho staccato e adesso ricondivido. Vai tranquillo. Dieci secondi davvero per ringraziare innanzitutto tutti i partecipanti per la costanza con cui stanno affrontando questo percorso e sottolineare l'importanza proprio dell'approccio open access e di tutto il lavoro open science. So che ne siete coscienti tutti quanti ma è una cosa che ci impegnerà tantissimo nei prossimi mesi e nei prossimi anni perché quello che si prospetta è l'adozione veramente di un nuovo paradigma della ricerca, cioè dovremo reimpostare le modalità a tutte le attività della ricerca in chiave open science e l'open access è un elemento importante. Qualcosa grazie alle tante competenze che abbiamo nel CNR abbiamo già cominciato a fare, parlo dei contratti trasformativi e di tante altre cose, ma come vi dicevo il percorso è decisamente lungo e siamo appena all'inizio. È importante, è fondamentale, è veramente necessario che questa formazione arrivi attraverso di voi e a tutti quanti i colleghi del CNR, conoscere questi elementi, sapere come intendiamo sviluppare questo discorso. Chiudo ringraziando davvero Silvia Giannini e Anna Molino che hanno preparato questo lavoro, che sì, come dire, frutto della loro esperienza precedente, ma credetemi in un momento in cui il lavoro per tutti quanti noi e per loro due in particolare è tantissimo, trovare anche il tempo di organizzare un discorso articolato come vedrete è una cosa straordinaria. Per questo le ringrazio davvero. Vi saluto, vado a impararmi in altre cose, buona continuazione. Grazie. Grazie Giovanni. Grazie a te. Allora, vedete il mio schermo? Sì Silvia si vede. Ok, perfetto. Allora, questo è il sommario praticamente, quindi vado, lo salto perché insomma tanto avete visto tutti praticamente con poche variazioni al programma che era stato inviato a tutti voi quando è stato comunicato anche il link per l'accesso. Io parto dalla policy istituzionale che è appunto, è stata diciamo approvata l'8 febbraio 2022, non è stata attuata per i motivi che tutti conosciamo e che erano legati all'utilizzo di People e al fatto che People avrebbe dovuto essere modificato in modo piuttosto importante, per cui nel momento in cui ci si accingeva a farlo è subentrato Iris e quindi sono state abbandonate diciamo le attività di revisione di People. Quindi la policy istituzionale è un documento diciamo più politico, è un regolamento che quindi fornisce indicazioni alla rete scientifica, indica qual è la posizione dell'ente sull'open side, sull'open access e quindi dà istruzioni sui percorsi che devono essere eseguiti appunto per l'open access. Quando è stata approvata la policy è stata approvata anche la policy gestionale che è un secondo documento che complementa la policy istituzionale, ha un carattere più operativo, più operativo perché definisce le misure organizzative, i ruoli, quindi anche gli organismi diciamo che entrano o che avrebbero dovuto entrare nella policy, insomma nella sua attuazione e anche nel suo monitoraggio, descrive l'archivio istituzionale e quindi tutto il flusso operativo. Questa policy, la policy open access non è stata attuata per i motivi detti e quindi parte adesso con il lancio di Iris, ma entrambi i documenti devono essere aggiornati e anche molto, anche solo per il fatto che non abbiamo più people e abbiamo Iris, quindi la policy gestionale soprattutto è un documento che descrive ampiamente l'archivio istituzionale che allora appunto era people in tutte le sue componenti, quindi non solo il modulo proprio di inserimento prodotti, ma anche tutte le altre componenti che erano CNR Explorer, gestione prodotti, supervisione e quant'altro. Per cui è chiaro che questi due documenti dovranno assolutamente essere rivisti, però non cambierà sostanzialmente diciamo quello che la policy istituzionale di ente prevede. Qui questi sono i contenuti, io li ho indicati semplicemente per mostrarli, noi non entreremo diciamo nel merito appunto di topics che sono indicati qui, ma che non servono più, quindi non andremo a parlare o comunque che non sono importanti ai fini della giornata di oggi, insomma dei temi della giornata di oggi. Qui ho riportato solo le finalità e principi, quindi il CNR seguendo quella che è un po' la direzione dell'Europa, ma del mondo diciamo, con un po' di ritardo rispetto a tante altre istituzioni, adotta buone pratiche per la diffusione della ricerca aperta. Riconosce che i risultati finanziati da fondi pubblici debbano essere pubblici e fa dell'apertura uno dei suoi principi guida, tant'è che è stata redatta anche una roadmap per l'open science, quindi per il cappello generale che include l'open access e i dati e quindi anche questa roadmap dovrà essere rivista, ma diciamo delinea tutto quello che ci sarà da fare per appunto rendere l'open science non solo una questione teorica, ma appunto praticare, fare pratiche che possano realizzarlo. La policy istituzionale riguarda la letteratura scientifica, quindi non prende in considerazione i dati per i quali non c'è ancora una policy e quindi questo è un altro dei topic che rientrano nella roadmap dell'open science, quindi lo sviluppo di una policy sui dati e poi l'indicazione delle pratiche che devono essere svolte per i dati stessi. Non cambia la sostanza nel senso che la policy prevede delle indicazioni per il deposito e la pubblicazione in accesso aperto dei prodotti della letteratura scientifica che sostanzialmente non cambieranno. Quindi gli autori CNR sono tenuti a depositare in people le informazioni descrittive alla versione digitale del prodotto consentita dall'autore, autorizzano il CNR approvando la licenza alla fine diciamo di una sottomissione, questo era già previsto per people e a maggior ragione avrete già avuto modo di vederlo anche in Iris, che autorizza il CNR a mettere appunto a disposizione del pubblico ciò che l'autore ha depositato. Rispettano i requisiti contrattuali illegali per la produzione, la cura, il deposito, la gestione e la distribuzione dei prodotti della letteratura scientifica e c'è un richiamo anche alle modalità con cui deve essere inserita l'affiliazione in una pubblicazione che deve sempre comprendere il CNR più acronimo dell'istituto o della struttura, insomma il nome per esteso dell'istituto o della struttura. D'altro canto il CNR dichiara di sostenere in primis la via, la green road di cui appunto parleremo successivamente che è basata sull'autoarchiviazione ma sostiene ovviamente anche le pubblicazioni basate sulla gold road, quindi le pubblicazioni completamente open access. Incoraggia la condivisione dei risultati della ricerca scientifica attraverso il deposito del preprint, raccomanda agli autori di riservarsi diritti per la pubblicazione ad accesso aperto nell'archivio istituzionale nel processo di negoziazione del contratto con l'editore, monitora l'applicazione della policy, quindi saranno attivati dei controlli sistematici sui contenuti dell'archivio mediante la raccolta e l'elaborazione di dati statistici, nel senso che quindi saranno parte, saranno le guide con diversi strumenti delle verifiche sul grado di attuazione, quanti prodotti open access ci sono, quanti di questi invece sono più, quanti prodotti sono chiusi e quant'altro. Adotta misure efficaci per la stipula di accordi con gli editori per facilitare la pubblicazione ad accesso aperto, questo è, lo rivediamo anche successivamente, queste sono praticamente l'attività che come gruppo acquisizioni CNR sotto gruppo contratti facciamo per i contratti trasformativi, di cui parleremo appunto dopo. raccomanda ai propri autori di pubblicare utilizzando licenze creative commons. Questo è il zucco delle procedure di deposito. L'autore deve praticamente depositare al momento dell'accettazione del prodotto, alla più lunga quando il prodotto è pubblicato nella sua prima data di pubblicazione che è quella relativa alla pubblicazione online di un articolo. Quindi, quando ha questa l'accettazione del prodotto, deve depositare in vivo le informazioni descrittive del prodotto, i metadati e la versione digitale integrale. Quindi, per realizzare l'accesso aperto, la versione depositabile è almeno una di queste. Il preprint o submitted version, che è la versione dell'articolo sottomesso dall'autore all'editore per la pubblicazione, ma non ancora, come dire, tra virgolette, toccato dall'editore, nel senso che non è né stato sottoposto a peer review e tantomeno ancora accettato. Il postprint o author accepted manuscript è invece la versione del lavoro che ha già subito il processo di revisione da parte dell'editore al board della rivista, è accettata per la pubblicazione, ma non è ancora impaginata dall'editore, quindi non è la versione finale, ufficiale dell'editore, che normalmente presenta i logotipi dell'editore, la grafica, il logo. C'è da dire che spesso capita che il postprint abbia già una bozza di impaginazione, abbia già un'impaginazione molto simile alla versione pubblicata, quindi è necessario capire quale versione ha depositato l'autore, se è necessario chiederlo, perché d'altra parte il preprint, il postprint specialmente, perché la versione finale spesso è recuperabile, visto che noi accediamo ai siti degli editori, per cui è facilmente controllabile, il preprint o il postprint devono essere forniti dagli editori e adesso in Iris questa operazione sarà facilitata perché l'autore stesso, come vedremo appunto, descrive la versione che ha depositato inserendo se è un preprint, se è un postprint o se è la versione dell'editore, in People c'era questo problema perché non c'erano campi specifici appunto per indicarli, per cui spesso, almeno nel nostro caso, è stato necessario appunto contattare gli autori e chiedere cos'è depositato, è un preprint o un postprint. per questo sarebbe buona norma dotare il documento che viene depositato, la versione che viene depositato di una pagina introduttiva nel quale si spiega questa versione, il postprint di tale lavoro, con tutti diciamo i riconoscimenti e quello diciamo che l'editore chiede che sia indicato e che nella maggior parte dei casi è il link alla versione editoriale, quindi il link alla versione editoriale sul sito dell'editore. Nel caso di prodotto non pubblicato, quindi tutta una tipologia, ci sono tantissime tipologie di prodotti non pubblicati, dove per non pubblicato si intende non pubblicato per vie tradizionali, non pubblicato da un editore commerciale, non pubblicato da una sede editoriale effettiva, perché poi il concetto di pubblicazione ovviamente lo sapete che è molto così, può essere inteso di pubblicare anche nello stesso archivio istituzionale, quindi ecco ci si riferisce a quei prodotti che non vanno a una sede editoriale e per questi prodotti l'autore ha facoltà di depositare in people la versione digitale che preferisce, quindi la sua migliore versione depositandola quanto prima. La versione depositabile, i diritti di accesso, perché un conto appunto è il deposito, un conto è l'apertura del prodotto al pubblico, quindi a tutti, dovranno essere scelti dall'autore in base alle politiche applicate dall'editore e ovviamente un referente dovrà, potrà verificare se sono state selezionate e scelti i diritti di accesso in modo corretto. Per le monografie la policy prevede che possa essere depositato soltanto l'indice e l'abstract, quindi non il testo integrale, non la versione digitale integrale. La verifica e validazione e la pubblicazione, diciamo io li ho adattati, questo è contenuto nella policy, quindi faceva riferimento a people, ma vale anche per Iris, perché il deposito di un nuovo prodotto viene notificato a referente, che quindi avvia le procedure di controllo dei metadati e degli allegati e dei diritti di accesso associati e poi appunto valida il prodotto. A seguito della validazione il CNR rende il prodotto immediatamente disponibile se questo prodotto appunto è in accesso aperto. quindi la pubblicazione di per sé pubblica immediatamente i metadati, a meno che non si scelga di renderli privati temporaneamente o definitivamente, per qualche motivo appunto di riservatezza. La pubblicazione della versione digitale è invece appunto funzionale alla verifica dell'eventualità dello stato del diritto d'autore sul prodotto e di eventuali incompatibilità con altri diritti che possono essere appunto quelli stabiliti dall'editore. Il referente verifica se il prodotto è soggetto a un periodo di embargo, quindi assegna i diritti di accesso al prodotto il referente o l'autore se lo fa già in fase di immissione del prodotto. Nel caso in cui il prodotto non è soggetto a embargo è immediatamente pubblicato, altrimenti viene pubblicato e reso visibile a tutti, quindi dal portale pubblico alla scadenza del periodo di embargo. L'accesso aperto, tutti conosciamo penso la terminologia convenzionale che si usa per appunto indicare i diversi modelli di pubblicazione open access. Green Road, Gold Road, riviste ibride, full open access, quindi cosa significa? La Green Road è diciamo, come abbiamo visto dalla policy, la strada, la via all'accesso aperto sostenuta in primis dall'ente e diciamo l'autoarchiviazione è sicuramente da sostenere ed è importante per diversi motivi, intanto perché è gratis e quindi non comporta che l'autore paghi per pubblicare in accesso aperto, perché consente di continuare a pubblicare in sede editoriali abituali dell'autore quelle che l'autore preferisce, consente anche di pubblicare in quelle riviste che magari hanno un fattore di impatto alto, hanno un quartile alto e che sappiamo che appunto fino a che non sarà, come dire, rivisto effettivamente le procedure, non saranno riviste le procedure di valutazione della ricerca, è sempre diciamo un aspetto che condiziona la pubblicazione di un autore, il fatto di scegliere di depositare in una sede editoriale prestigiosa, perché questo è quello che gli viene richiesto per la VQR, per le carriere, nei concorsi eccetera. Quindi la Green Road ha tutti questi vantaggi, possono esserci delle problematiche che vedremo dopo, mentre la Gold Road prevede che l'autore possa pubblicare in una rivista completamente open access, dietro pagamento della cosiddetta APC, l'Article Processing Charts, e questo è il caso delle riviste native open access, quelle che gli editori tipo MDPI, Frontiers ed altri che nascono come editori full open access e pubblicano solo in questa forma, per cui queste riviste non sono riviste soggette a un abbonamento per la lettura, perché appunto sono esclusivamente in accesso aperto, quindi non ci sono costi per un lettore, non ci sono costi per l'istituzione, diciamo questo è parzialmente vero, perché se l'istituzione stipula un contratto anche per l'accesso, anche per l'accesso e la pubblicazione su riviste full open access, di fatto paga, comunque c'è sicuramente un pagamento da parte dell'autore o dell'istituzione. È Gold Road anche la pubblicazione in riviste ibride perché il prodotto nel momento in cui diventa open access diventa un Gold perché si pubblica anche in questo caso dietro pagamento. Sono proprio le riviste ibride, sono le riviste appunto tradizionali disponibili dietro una subscription all'editore e sono quelle che nella maggior parte dei casi rientrano nei contratti trasformativi stipulati dall'ente, perché l'ente appunto dal 2020 per agevolare proprio la pubblicazione in accesso aperto degli autori CNR sottoscrive contratti trasformativi. Contratti nei quali i costi per l'accesso in lettura e per la pubblicazione in accesso aperto sono sostenuti dall'ente, quindi gli autori non devono pagare. Dietro questi contratti trasformativi c'è un grande lavoro e ho messo un link alla pagina del sistema bibliotecario CNR dove ci sono tutte le spiegazioni, sono indicati tutti i contratti, ci sono tutte le condizioni e le indicazioni su come pubblicare, quali procedure seguire e quant'altro. Oppure continuando appunto l'elenco dei luoghi in cui l'autore può pubblicare in Gold Road, ci sono anche riviste full open access commerciali che non prevedono però un pagamento di una fee insomma dell'APC o in sistemi editoriali completamente open access che di solito sono in carico a istituzioni no profit come gli Atenei, le singole università, enti di ricerca, con la commissione europea che generalmente utilizzano sistemi open source per la gestione dell'intero ciclo editoriale, quindi dalla sottomissione alla pubblicazione, garantendo comunque la qualità dei contenuti tramite la PRV. Questo è il cosiddetto Diamond Open Access che appunto è una strada poco praticata dagli autori CNR per quello che noi abbiamo modo di verificare, ma anche parlando con alcuni colleghi è emerso questo punto che sostanzialmente gli autori CNR pubblicano un open access pagando per l'open access, quindi anche l'autoarchiviazione è poco praticata, anche la green road è poco praticata. Il Diamond Open Access vanta anche esempi illustri in Italia, c'è l'Università Statale di Milano che da anni pubblica molte testate di riviste, il concetto appunto è quello della gratuità sia per chi pubblica sia per chi legge, quindi una modalità di pubblicazione improprio delle istituzioni, quindi ciò che gli autori fanno quando appunto pubblicano un lavoro e quindi si prendono in carico e erogano una serie di servizi, sono svolti invece dalle istituzioni, chiaramente con molte più difficoltà perché i fondi sono pochi, sono poche le persone e quindi diciamo esempi come quelli della Statale di Milano se ne trovano pochi, però si può parlare di Diamond Open Access anche per quanto riguarda Open Research Europe che è la piattaforma della Commissione Europea, Sipost o altre piattaforme che consentono questo tipo di pubblicazione. Quello che è importante dire è che questi modelli qualunque appunto l'autore scelga di seguire non sono alternativi o esclusivi fra di loro, quindi anche se un autore pubblica un articolo completamente Open Access, quindi il suo lavoro sarà pubblico e sarà visibile a tutti, dovrà comunque depositarlo nell'archivio dell'ente perché appunto gli scopi dell'archivio e del catalogo Iris CNR sono quelli anche di conservazione a lungo termine della produzione scientifica dell'ente e anche la valutazione della ricerca, sebbene diciamo qualcosa stia cambiando anche sotto questo aspetto della valutazione della ricerca. Qual è lo strumento che aiuta a verificare le politiche degli editori sul deposito e l'esposizione di un prodotto? La manca dati Sherpa Romeo che penso più o meno tutti conosciamo e che è anche collegata in inglese al momento di una submission da parte di un editore. Questa è l'home page di Sherpa Romeo, quindi in questo primo form si effettua la ricerca per titolo della rivista o gli SSN oppure il nome dell'editore. ci sono anche degli elenchi a disposizione, il browse by country e il browse by publisher che consentono di scorrere per nome dell'editore o per nazione di appartenenza dell'editore. Se si inserisce un titolo e si recupera quindi la rivista di nostro interesse, c'è una breve descrizione bibliografica della rivista, è riferito gli SSN, a volte solo uno, a volte anche entrambi, print online, è riferita la urla dell'editore e chi è l'editore. Entrando nel dettaglio io ho fatto una ricerca per la rivista teoretica computer science che forse l'ho messa teoretica al computer science, quindi mi viene restituito la scheda appunto della rivista. Per quanto riguarda le politiche dell'editore, vengono tutte mostrate, vengono tutte mostrate le condizioni di utilizzo delle diverse versioni di un articolo. Quindi ricordiamo la published version è la versione finale dell'editore. Il post print o accepted version è la versione del lavoro già riferata e accettata. Il pre print è la versione del lavoro che l'autore sottomette a pubblicazione, cioè sta sottomettendo a pubblicazione. Ogni sezione si apre e si chiude con i simboli più e meno e adesso andiamo a vedere cosa cambia nei diversi casi. Noi vediamo che la published version, quindi la versione finale dell'editore, segue tre percorsi, cioè un percorso A, un percorso B e un percorso C. In tutti questi percorsi deve essere comunque pagata una fee. Ho saltato questo significato dell'icone che però è inserito nella slide, quindi le icone che presenta Sherpa sono queste, la versione a pagamento è il simbolo della valuta, il documento, un facsimile documento, indica che sono previste opzioni di pubblicazione in accesso aperto, la clessidra, indica che alla versione è applicato un periodo di embargo, la licenza che in questo caso è indicata su CC BY dice che ci sono indicazioni sulla licenza Creative Commons, la nuvoletta rappresenta il luogo di deposito del lavoro della pubblicazione per l'editore, mentre la cartellina che simula un directory, un folder, indica possibili luoghi di deposito per l'autore. I segni di spunta dicono che ci sono delle condizioni che devono essere rispettate, che ha stabilito l'editore e poi c'è questo simbolo che è un campo note, possono essere segnalati alcune cose. Quindi tornando ai nostri tre percorsi della published version, qui noi abbiamo questa simbologia, quindi la published version può essere utilizzata dietro pagamento. I costi di pubblicazione non sono inclusi nelle informazioni presentate da Sherpa Romeo, quindi è necessario verificarle da altre fonti o dal sito dell'editore o comunque dal contratto, insomma dagli accordi che si fanno con l'editore. Questo primo percorso ci dice che l'uso della versione pubblicata è a pagamento, ci sono opzioni di pubblicazione in open access, non c'è embargo, le licenze consentite sono la CC BY NC ND o la CC BY NC. Quindi in questo caso non è prevista una CC BY 4.0 che come vedremo è la licenza più aperta. dove si può depositare il nostro lavoro? Si può depositare o in questi repository che sono indicati, PubMed Central, ESRC, Research Catalog, in un repository non commerciale, in un website, quindi in un sito web non commerciale, o il sito ovviamente del journal. Le condizioni sono quelle che, dettate dall'editore che deve essere diciamo inserito un acknowledge, cioè un ringraziamento con una citazione alla versione dell'editore. quindi questo è un caso in cui si paga, l'autore paga e può archiviare anche in un repository istituzionale, perché è specificato soltanto non commercial repository. Il secondo percorso invece prevede sempre nessun embargo, la CC BY, in questo caso una licenza più aperta, e il deposito nel repository istituzionale, sempre nei repository indicati, in repository disciplinari, quindi sono inseriti i repository disciplinari rispetto al precedente, e poi lo stesso journal website. Infine c'è il percorso C. Il percorso C è quello che prevede che ci sia un finanziamento del lavoro, della pubblicazione, da parte di questo insieme di founders. Quindi in questo caso si paga comunque, non c'è embargo, l'utilizzo alla CC BY, il publisher può depositare in PubMed central, e si può depositare praticamente in qualsiasi repository, repository istituzionale, disciplinare, eccetera. Le condizioni dell'editore non cambiano sostanzialmente. Ora, nel nostro caso, quindi di pubblicazioni per cui si paga per l'open access, se si voglia utilizzare per il deposito, la versione pubblicata, il caso diciamo più, è difficile che noi abbiamo un caso di pathway C, cioè solitamente non abbiamo diciamo noi il finanziamento diciamo di questi finanziatori qua. Quindi dobbiamo, è molto diciamo semplice dire che si pubblica sotto CC BY e si può depositare in un archivio istituzionale, cioè non solitamente quando si paga, non ci sono grandi limitazioni, si paga una versione pubblicata, questa può essere depositata, può essere aperta, può essere fatto tutto quanto, insomma ecco nel momento in cui si è pagato. Come vedete in questo, questa rivista è una rivista Elsevier, quindi Elsevier dava nel primo caso l'opzione di scelta della licenza. ci sono editori, gli editori full open access, come possono essere appunto già citati, MDPI, Frontiers eccetera, che di solito associano un solo tipo di licenza. Però la licenza viene scelta sostanzialmente, nel caso in cui ci siano più opzioni di scelta, viene scelta dall'autore nel momento in cui stipula il contratto con l'editore. Ora, personalmente io non ho mai visto un contratto editoriale tradizionale, un contratto proprio nero su bianco di un autore mio, del mio istituto con un editore. Quello che noi abbiamo avuto modo di vedere, proprio per la gestione dei contratti trasformativi, è il contratto, quindi la finalizzazione della sottomissione all'editore, attraverso la dashboard di un autore. E lì, ovviamente, abbiamo avuto la possibilità di vederli quando abbiamo dovuto recuperare gli articoli Elsevier 2023. C'erano autori che avevano dei problemi a finalizzare il recupero di queste versioni, quindi noi abbiamo avuto modo di accedere, abbiamo potuto vedere più o meno quello che è richiesto, perché solitamente noi che amministriamo contratti trasformativi non vediamo in realtà le dashboard degli autori. però, diciamo, la licenza è indicata e quindi l'autore l'accetta. Quindi accetta quello, sceglie, accetta, sceglie, accetta quello che gli viene proposto, sceglie se ci sono più opzioni. Il caso è magari un pochino più complicato per quanto riguarda il post-print, l'accepted version, perché anche per l'accepted version, in questo caso, sono previsti tre percorsi, ma, diciamo, io ho scelto una rivista che, appunto, era un pochino più articolata proprio per vedere insieme i vari percorsi, le varie situazioni in cui ci si può trovare. Non è che tutte le riviste che sono selezionabili in Sherpa abbiano tre percorsi, ci sono anche riviste molto semplici. Comunque, il post-print segue tre percorsi. Il primo percorso, che è il pathway A, è possibile rendere immediatamente visibile il post-print sull'home page degli editori e nei repository indicati, ma non in un archivio istituzionale. Non è previsto. Mentre nel pathway B c'è un embargo di ben 24 mesi, la licenza è la licenza più restrittiva tra le sessi by, come del resto nel caso precedente, però si può archiviare nel repository istituzionale o in un repository disciplinare. Nel caso del pathway C sono presenti appunto dei prerequisite funders, come abbiamo visto anche per la published version, quindi se c'è un finanziamento di questo tipo, di uno di questi enti, di queste organizzazioni, se l'embargo scende a 12 mesi, la licenza rimane la stessa e si può allo stesso modo archiviare in un repository istituzionale o disciplinale e rendere pubblico il lavoro trascorsi i 12 mesi in questo caso e i 24 mesi in questo caso. Quindi cosa succede quando ci si trova di fronte a una situazione di questo tipo? Succede che talvolta le indicazioni date dall'editore, quindi la politica stabilita dall'editore, detta delle condizioni che non sono compatibili con quanto viene richiesto, ad esempio, da finanziatori come la Commissione Europea, quindi H2020, HEurope, PRIN o quant'altro e lo vediamo successivamente. La submitted version invece è il preprint, nel caso di questa rivista che abbiamo preso come esempio, non prevede embargo, può essere depositata any website e su repository indicati, archive o REPEC. Ora, any website non è any repository, ovviamente. Io devo dire che su questa cosa noi ci abbiamo riflettuto, abbiamo avuto modo di rifletterci quando abbiamo lavorato all'open access nel QR precedente. Perché stando a quello che è scritto, ovviamente, quando si parla di website, si parla di website, quindi lo puoi mettere sulla pagina personale dell'autore, sulla pagina dell'istituzione, in altri, diciamo, luoghi. Quindi, noi abbiamo deciso di interpretare questo any website come nell'accezione più ampia e quindi abbiamo deciso alla fine di dire, bene, la submitted version è la versione dell'autore, non è la versione ancora dell'editore e quindi noi consideriamo website anche il portale dell'archivio istituzionale. Anche qui ci sono delle condizioni, però sostanzialmente nella maggior parte dei casi la versione preprint è utilizzabile e può essere resa pubblica praticamente da subito. Sono piuttosto rari i casi, ma esistono però, in cui la versione, la submitted version non può essere utilizzata. Quindi, la consultazione di Sherpa Romeo o di altre fonti ovviamente è funzionale per la scelta della sede editoriale anche e soprattutto nel caso di pubblicazioni finanziate, perché ci sono degli obblighi da rispettare e devono essere rispettati se si vuole evitare sanzioni che possono essere poi applicate nel caso in cui appunto il programma si renda appunto che questi obblighi non sono stati assolti. Ogni programma può avere delle condizioni diverse, quindi per esempio H2020 e i bandi SIR stabiliscono un periodo di embargo di soli sei mesi per le discipline scientifiche, tecnologiche e mediche, 12 mesi per le scienze umane e sociali, nei PRIN l'embargo è più lungo, 18 mesi per le discipline STM, 24 per le scienze umane e sociali come del resto della legge italiana in materia di open access. Horizon Europe invece ha dato un po' una svolta, una sterzata diciamo, perché Horizon Europe stabilisce il deposito immediato, l'esposizione pubblica immediata senza embargo, l'attribuzione di una licenza si si vai, non ammette la pubblicazione in riviste ibride se non coperte da un contratto trasformativo. Quindi ecco, è importante che autori ma anche referenti che guidano e che forniscono supporto ai propri ricercatori sappiano queste cose perché appunto è possibile fruire dei contratti trasformativi dell'ente e continuare magari a pubblicare in quella rivista che ci serve, che ci piace, che è prestigiosa e tutti i motivi di cui abbiamo già parlato. Quindi è importante che gli autori si assicurino di poter autoarchivare il proprio lavoro nella versione editoriale definitiva o nella versione post print perché questo è richiesto. Era richiesto in H2020, è richiesto in Horizon Europe, quindi non il preprint, è richiesto il post print. Quindi se la sede editoriale che un autore sceglie detta delle condizioni che non sono compatibili col programma di finanziamento, sarebbe opportuno scegliere un altro, comunque negoziare con l'editore per mantenersi alcuni diritti tra i quali anche quello appunto della ripubblicazione in un repository dell'autoarchiviazione. Gli autori sanno ormai, penso, tutti quelli che comunque utilizzano progetti europei che le spese di pubblicazione per l'accesso aperto possono comunque anche essere coperte dal programma stesso se questo viene preventivato, quindi messo in conto nella proposta di progetto. Veniamo alle licenze Creative Commons. Io do un accenno, diciamo, su cosa sono, a cosa servono, poi le riprenderà Anna nella sua parte e faremo vedere appunto come queste licenze si applicano in Iris. Quindi come cambiano le voci a seconda delle scelte che si operano in Iris. In Iris è molto semplificata la scelta della versione, è molto facile. Quello che un referente deve tenere presente è che non è che la licenza si sceglie in Iris nel momento in cui si fa il deposito, la licenza la sceglie appunto l'autore, come abbiamo detto. Quindi deve essere, se un referente si trova a dare indicazioni sulla licenza, è necessario che sappia quale licenza ha applicato l'autore. Quindi, o guardando il file depositato, al cui interno, se c'è, se lavora open access ed è stata attribuita una licenza, lo vede, oppure comunque chiedendo all'autore. Però ecco, non è che dobbiamo scoprirlo nel momento in cui si va a lavorare in Iris. Sarebbe buona norma attribuire delle licenze anche ai prodotti non pubblicati. Quindi, al solito, tutti i prodotti, tutte le tipologie di pubblicazione che sono presenti, erano presenti in People, sono presenti in Iris, che non sono pubblicate attraverso i canali commerciali di editori, appunto, commerciali. Le licenze Creative Commons sostanzialmente sono lo strumento che si utilizza per stabilire quale utilizzo del lavoro possono fare soggetti terzi, non identificati. Quindi non ci sono classi di soggetti, non sono identificati quindi il mondo, chiunque, diciamo, capiti sul nostro lavoro e ne voglia fare un uso. L'autore mantiene la paternità dell'opera, ad eccezione del pubblico dominio, del caso del pubblico dominio, ma decide quali diritti si riserva e quali concede in uso, in modo che appunto gli altri soggetti possano utilizzare la versione del suo lavoro, modificarla, condividerla, adattarla, fruirla in ogni caso. In ogni licenza common è sempre obbligatoria la citazione della paternità, quindi quando si parla di attribuzione è la citazione della paternità, eccetto nel pubblico dominio che in effetti non è una vera e propria licenza si si vai, cioè le licenze si si vai sono sei. Quindi poi c'è il pubblico dominio in cui appunto l'autore decide di donare la propria opera al mondo e non chiede neanche che gli venga attribuita la paternità. Questa immagine appunto che proviene dal blog spot di Aniprandi che è un avvocato che si dedica appunto alle questioni dell'open access anche, illustra bene in queste scalette diciamo che cosa è consentito e cosa no, da un grado diciamo più chiaro a un grado più scuro dove il grado più scuro è quello diciamo più restrittivo. perché le licenze create in commons si collocano infatti a metà tra la chiusura totale del copyright e il pubblico dominio, quindi sono una via di mezzo tra questi due regimi, il regime del copyright, il regime in cui tutti i diritti sono riservati e il pubblico dominio nel quale non ci sono i diritti riservati compresa la paternità dell'autore. Quindi i segni di spunta indicano tutto quello che è possibile fare o non fare. Nel pubblico dominio, come vedete, non è richiesta l'attribuzione in tutti gli altri casi signi. La CC BY è quella più vicina al pubblico dominio. Via via che si va avanti ci si allontana. Io adesso mi sposto e c'è il link su questa immagine alla pagina del capitolo italiano di creative commons nel quale ci sono tutte le spiegazioni sulle licenze che sono visibili già in prima battuta dall'immagine dicendo si si vai, cos'è richiesto? È richiesta la sola attribuzione, cioè solo l'indicazione della paternità. Cliccando su common deed si va nella spiegazione completa di tutto quello che si può fare o non fare utilizzando questa licenza. quindi un autore che voglia indicare una licenza specifica nel caso in cui gli vengano offerte più possibilità, gli vengano offerte più opzioni, ha possibilità di andare comunque a controllare il significato delle licenze si si vai. Quindi qui torno a testa Dov'è la presentazione? Ok Quindi qui ti dice queste immagini sono comunque riportate un pochino di indicazioni ma tanto le riprenderemo anche successivamente nel momento in cui si va a vedere la validazione del file e il workflow in Iris. Io a questo punto chiudo qua e passo la parola a Anna e interrompo la condivisione che prosegue con il workflow in Iris dell'applicazione di quanto detto finora nella pratica. E vi ringrazio per l'attenzione. Grazie Silvia. Qui abbiamo vedo nella chat qualche domanda non sono tantissime quindi non so come vogliamo procedere se rispondere intanto a queste domande ad alcune ho già risposto io quelle insomma più veloci qualcun'altra ci ha dato una mano qualche collega che ringrazio nel rispondere se vuoi te le leggo se vuoi rispondere subito altrimenti lasciamo tutto in fondo. io posso anche rispondere solo che non so da dove devo partire quali sono quelle qui hai risposto tu sì sì faccio io se per te va bene faccio io da regista allora più che altro quello che vedo ci sono un paio di considerazioni e qualche dubbio sul funzionamento diciamo su come leggere Sherpa Romeo però parto dall'inizio secondo solo no qui ho risposto io allora un collega chiede perché inserire il prodotto al momento dell'accettazione quando mancano ancora metadati come fascicolo pagine eccetera se si viene notato che si farebbe il lavoro due volte questo penso si riferisca a quanto hai detto sulla policy open access e le procedure di deposito cioè quando depositare il prodotto allora questo è chiesto anche dai finanziatori quindi se una pubblicazione è finanziata comunque lo deve fare poi comunque non si fa il lavoro due volte perché chiaramente uno inserisce la pubblicazione mette i dati di cui è a conoscenza tipicamente il caso della pubblicazione online first quindi la prima pubblicazione avrà solo il DOI non avrà un volume non avrà le pagine però non è che poi l'autore va a rimettere il lavoro se questo poi viene pubblicato nella versione definitiva con un volume con le pagine riprenderà quella descrizione e la completerà di tutte le informazioni che ci sono quindi non è un lavoro doppio è semplicemente un lavoro di completamento che però dà visibilità già al prodotto perché comunque il prodotto a meno che non rimanga in bozza faccio riferimento a Iris in questo caso ma anche in People c'era la possibilità di renderlo visibile o non visibile via web è già visibile si sa già che esiste questo lavoro e che è in fase di come si dice in press in qualche modo no? in corso di stampo ok scusate sono Pasquale del Vecchio dell'Irispa di Bacca a proposito del si mi sentite? si si signora si a proposito del del first published online quindi la pubblicazione che viene prima pubblicata online diciamo conto nel 2024 a novembre a dicembre e poi a una pubblicazione cartacea l'anno successivo su questo tema si è molto dibattuto avevamo in People nel mio istituto che è abbastanza grande duplicazioni a go go cioè la pubblicazione veniva prima inserita online poi veniva reinserita cartacea è stato un grosso lavoro anche per far capire ai ricercatori che poi il criterio era quello dell'online anche in relazione alla VQR secondo le indicazioni che arrivavano poi dal da Roma insomma dalla sede centrale quindi nel passaggio a Iris è confermata questa indicazione che va inserita la pubblicazione scusami credevo tu avessi finito no che che va indicato appunto online subito ed è quello a cui si fa riferimento allora io non credo la pubblicazione su Iris viene inserita first published online viene inserita su Iris poi rimane 2023 oppure bisogna andare a cambiare quella pubblicazione e mettere 2024 con le indicazioni del cartaceo perché questa cosa è importante sì è importante noi diciamo non è che ci sono indicazioni però le pubblicazioni si duplicheranno come il pane e i pesci cioè verrà inserito prima il prodotto perché comunque il ricercatore ha la smania di inserire nel su Iris o prima era su People poi quando avrà l'ho verificato io miliardi di volte quando poi uscirà la versione cartacea lo reinserirà di nuovo metterà un'altra pubblicazione e io avevo da un anno all'altro perché facevo i report ogni anno da un anno all'altro mi vedevo pubblicazioni che continuavano a saltare dall'anno precedente all'anno successivo e quindi erano un po' come i carammati diciamo di qualcuno nel ventennio che si spostavano da Venezia a Roma da Roma a Palermo erano sempre gli stessi praticamente quindi diciamo un'indicazione di massima va data vabbè la daremo noi comunque ce la siamo data al nostro interno noi ce la siamo data eh sì però abbiamo deciso e voi potete però va data no io ho avuto problemi con colleghi di altri istituti cioè veramente difficili cioè che mi dicevano no la pubblicazione è cartacea nel 2024 io la devo contare nel 2024 non esiste cioè siamo arrivati io sono arrivato a dire guarda io ti disconosco il mio prodotto questo prodotto da parte mia e tu te lo reinserisci pari pari però scusa Pasquale scusami se ti interrompo eh in Iris comunque c'è eh la funzione eh o meglio ti viene dato un alert qualora venga inserita venga inserito scusami un possibile duplicato di una pubblicazione anche in People c'era anche in People c'era Anna ti diceva questo prodotto ma stati tranquilla che non non questa 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 alert viene ignorato inserisci comunque sì perché per me la pubblica per me parlo diciamo lato produttore eh per me la pubblicazione 2024 perché la rivista riporta gli estremi la pagina e quant'altro poi che è stato inserito anche nel 2023 a me non interessa a me interessa che poi io la inserisco con eh 2024 con i riferimenti le pagine e quant'altro in questo modo continuerebbe pubblicazioni che si duplicano all'infinito quindi diciamo lato referente avrebbe dato un'indicazione chiara dire la pubblicazione si inserisce first part online ed è quello che conta e non di di riduplicarla anche perché poi con la VQR avremo dei problemi questo lo potremmo fare in fase di revisione della policy ok nel senso che non cioè io credo comunque che un ricercatore allora vuole vuole indicare la versione finale col volume non mette la versione online mette direttamente quella poi eh ci si può trovare d'accordo però se ritenete siccome la policy come vi ho detto va rivista e va rivista appunto per tutto quello che riguarda l'archivio ma non solo potranno essere inserite delle indicazioni anche in questo senso quindi la policy eh è meglio che siano inserite nella policy che è quella a eh nella policy che poi darà origine a delle linee guida perché guardate eh noi al tempo avevamo fatto questa policy gestionale ma in realtà insomma non ha molto eh molto senso o comunque non ha non serve a granché l'avevamo fatta perché erano previsti dei ruoli erano previsti degli organismi erano previsti quindi è molto probabile che con la revisione rimanga la policy istituzionale e poi magari delle linee guida quindi sia a livello di policy che a livello di linee guida che saranno poi esposte sul portale pubblico di Iris possiamo dare questa indicazione un prodotto viene inserito al momento dell'online la eh io speravo faccio un inciso scusate io speravo in realtà che ci fosse la possibilità in Iris di dirimere questa questa cosa nel senso che ci fosse la possibilità di indicare sia la data dell'online sia la data definitiva eh che quindi possono coincidere ma anche no però poi effettivamente quando tu vai a inserire un volume il numero di pagine quant'altro è alla pubblicazione finale che fai riferimento capito quindi noi a liste abbiamo deciso questo eh si tiene per buono la pubblicazione online l'anno rimane quello della pubblicazione online andavamo in nota a inserire che i riferimenti al volume alle pagine eh si riferivano alla versione print finale che magari era dell'anno successivo eh poi parliamoci chiari tutti 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 sappiamo che poi può essere che serva come dire conferire un prodotto in un anno piuttosto che in un altro e quindi magari a quel punto puoi citare la la versione online puoi citare quella definitiva insomma quindi anche noi abbiamo ci siamo dati questa regola tenendo presente che poi se ci sono delle eccezioni ci sono delle eccezioni comunque potremmo farlo scusate ora non so se andare avanti con Pasquale non so se volevi intervenire vedo che hai sempre il microfono aperto no cioè va bene va bene così ok anche precedentemente con la UQR c'era questa possibilità insomma venivano date indicazioni che l'online dell'anno precedente anche se non rientrava diciamo nel quadriennio nel quinquennio adesso non ricordo è appunto per evitare duplicazioni cioè io credo che inevitabilmente avremo duplicazioni anche anche in relazione in riferimento alla reportistica perché io la mia preoccupazione era quella di avere comunque dei database puliti ed effettivamente fedeli alla produzione scientifica di istituto perché quando andavo a fare poi il report vedevo poi avevo problemi a vedere dei lavori che avevo magari che erano già nel report precedente e poi le ritrovavo eventualmente anche nell'anno successivo e quindi se volevo vedere qual è la produzione scientifica dell'ultimo quinquennio del mio istituto poi avevo dei dati completamente spalsati e quindi diciamo la mia preoccupazione è questa non avere poi dei repository effettivamente puliti quindi quando poi si avrà bisogno di fare reportistiche avremo dei lavori che inevitabilmente si accavallano negli anni cioè passano sono duplicati dall'anno precedente all'anno successivo però va bene assolutamente c'è anche la funzione di deduplicazione per cui volendo uno l'attiva e vede tutto ciò che è deduplicato in Iris ok va bene grazie grazie a te Pasquale io se siete d'accordo Silvia se sei d'accordo vedevo che due colleghi avevano alzato la mano ma l'hanno anche abbassata quindi deduco io partirei con la tua presentazione poi così rispondiamo a tutte le domande tanto siamo a disposizione certo va bene allora io mi chiedo scusa se faccio qualche casino con la presentazione ma proprio stamani Teams ha deciso di aggiornarsi quindi spero di non fare la figura del fantozzi della situazione un secondo solo mi posiziono l'ho già fatta io ma ormai siamo due allora vado a condividere lo schermo che ora dovreste vedere Silvia giù ok se vedete il mio schermo e mi sentite parto sì sì allora come vi diceva Silvia prima questa parte questa seconda parte della presentazione sarà un pochino più di taglio un pochino più pratico almeno questo è l'intento nelle slide a seguire non troverete molto testo ma soprattutto delle screenshot che ho preso appunto lavorando direttamente in Iris ho cercato di adottare in questa parte della presentazione due prospettive diverse in primis quella dell'autore simulando insomma riportandovi in queste slide quello che è stato un effettivo inserimento di una pubblicazione all'interno dell'archivio da parte di un autore che mi ha dato una mano in questo e poi passeremo invece alla prospettiva del referente quindi come può operare il referente all'interno del vero e proprio workflow di validazione di un prodotto nel nuovo archivio in Iris dunque partiamo come vi dicevo dall'inserimento del prodotto lato autore in questo caso il nostro autore ha potuto recuperare i dati da un servizio bibliografico esterno dunque ha indicato il DOI nell'apposito campo e da qui ha derivato diversi metadati descrittivi che quindi comparivano già all'interno della descrizione nei vari step di descrizione del prodotto in Iris alcuni dati li ha aggiunti lui di suo pugno come per esempio la struttura organizzativa nel primo step di descrizione oppure alcune informazioni nel secondo step come il numero di pagine o le keywords dunque ha deciso l'autore di arricchire ulteriormente la descrizione del prodotto allo step 3 di descrizione qui non so se vedete il mio cursore mi soffermerò giusto un secondo in più su questo step il nostro autore appunto avendo fatto l'import dei dati descrittivi dei metadati descrittivi della pubblicazione da un servizio esterno ha verificato la correttezza di quanto è importato soprattutto riguardo qui la string autori cioè nel caso specifico si trattava di un articolo in rivista i cui autori erano tutti e quattro autori CNR e tutti e quattro afferenti al medesimo istituto però è stato l'autore stesso a rielaborare in questo caso la string autori disambiguare eventuali autori per cui era necessaria fare una disambiguazione e quindi ha verificato che le persone effettivamente coinvolte quindi gli autori effettivi della pubblicazione così come compaiono nella pubblicazione stessa nel pdf diciamo del lavoro fossero quelli effettivamente indicati all'interno della descrizione quindi in questo caso vedete abbiamo tutti e quattro verdi perché si tratta di quattro autori interni nella fattispecie proprio in questo caso specifico uno degli autori è un associato al nostro istituto quindi avrà una doppia affiliazione in questo caso figura verde perché nel paper ha espresso anche l'affiliazione a CNR isti qualora invece nel paper non ci fosse stata espressa la sua affiliazione CNR ma solo quella universitaria allora il nome di questo autore particolare non sarebbe dovuto comparire come verde diciamo nella string autori ma doveva rimanere come autore esterno e dunque essere colorato diciamo di grigio mi soffermo sullo step 5 di descrizione del lavoro spero che qui l'evidenziazione si veda allora l'autore a questo punto deve caricare il file ha già come vi anticipava Silvia una guida diciamo in questo senso fornita dal sistema oddio scusate sono andata avanti in questo caso vedete ci sono delle sul lato destro dello schermo dell'autore compariranno le informazioni prese in questo caso specifico da Unpaywall ma potevamo avere anche non solo quelle di Unpaywall ma anche quelle di di Sherpa Romeo in questo caso queste informazioni fondamentalmente cosa ci dicono ci dicono che è stata applicata al lavoro una licenza CC BY molto probabilmente si tratta di una CC BY 4.0 perché non sono specificati altri tipi di restrizioni come abbiamo visto prima nella slide di Silvia questa licenza è applicata alla versione pubblicata qui vedete tipo versione published version e ci dà anche un'indicazione sul tipo di rivista in cui l'autore ha pubblicato ha pubblicato su una rivista ibrida quindi la rivista in particolare consente la pubblicazione sia ad accesso aperto che per canali chiamiamoli tradizionali ovvero tramite sottoscrizione detto questo il nostro autore ha dunque potuto caricare la versione pubblicata dandogli diritto di accesso aperto ed è appunto quello che ha fatto come vedete in questa prima screenshot della slide qui ci dice che il file è stato caricato con successo e l'autore ha quindi a questo punto indicato le impostazioni di accesso alla versione editoriale che è appunto la versione del prodotto che ha caricato le impostazioni saranno accesso aperto e ha replicato all'interno di Iris la licenza creative commons applicata al suo lavoro quindi cosa ha fatto ha preso il file fondamentalmente della sua pubblicazione è andata a vedere che licenza creative commons fosse applicata e l'ha replicata poi vedremo anche alla fine di questa parte della presentazione come ha fatto a riprodurre esattamente questa licenza dunque cliccando su successivo qui l'autore ha a disposizione i dati riepilogativi del caricamento del file di nuovo vedete che è stata caricata la versione editoriale del lavoro applicandovi una licenza creative commons e le impostazioni di accesso sono accesso aperto avrebbe facoltà l'autore di caricare anche un secondo file in questo caso non lo ha ritenuto necessario però se ad esempio questa pubblicazione non fosse stata ad accesso aperto quindi la versione editoriale non avesse avuto una licenza creative commons attribuita allora a questo punto l'autore avrebbe potuto caricare faccio l'esempio ipotetico la versione pubblicata ad accesso ristretto e se consentito appunto dalla policy dell'editore il post print per dirne una ad accesso aperto oppure il pre print ad accesso aperto in base alle informazioni che ha potuto reperire tramite il sito dell'editore stesso oppure Sherpa Romeo come vi ha fatto vedere precedentemente Silvia dunque cliccando poi su successivo l'autore accede alla pagina riepilogativa dove appunto può controllare la correttezza dei dati inseriti e poi si arriva all'ultimo step prima della conclusione dell'inserimento del lavoro in Iris ovvero la concessione della licenza quindi l'autore inserendo il lavoro va ad accettare la licenza di distribuzione quindi la licenza di deposito nel catalogo Iris CNR l'autore ha anche come sapete ha anche facoltà di rifiutare quindi di non accettare la licenza qualora lo faccia il prodotto non è che sparisce dall'archivio torna nelle bozze nel desktop prodotti dell'autore e lì rimane quindi non sarà neanche accessibile dalle pagine pubbliche di Iris rimane nella sezione bozze dell'autore fino a che appunto non verrà accettata la licenza dunque una volta quindi arrivata una volta accettata la licenza l'autore arriva a questo punto ovvero gli si aprirà la pagina del prodotto come inserito in Iris quindi avrà accesso anche qui alla scheda breve alla scheda completa alla scheda completa di sì e lo status del lavoro risulta invalidazione anche sul suo desktop prodotti l'autore vedrà appunto nel suo cruscotto sotto il tab pubblicazioni invalidazione aumentare di uno in questo caso ne aveva una sola quindi vedete solo uno aumentare di uno il numero delle pubblicazioni invalidazione e quindi a questo punto la palla diciamo così passa al referente quindi ci spostiamo come prospettiva appunto lato referente in questa screenshot vedete cosa succede sul mio desktop prodotti in visione di contesto allora vedete che innanzitutto c'è la pubblicazione appena inserita dall'autore tutti gli incarichi disponibili per il nostro istituto sono sei in questo caso tra cui appunto vedete come vi dicevo la pubblicazione appena inserita incarichi disponibili sono gli incarichi disponibili per il pool di validatori dell'istituto nel caso nostro diciamo siamo in due siamo io e Silvia quindi sia io che Silvia in questo momento abbiamo a disposizione sei incarichi da spartirci passatemi il termine quindi per quanto riguarda la pubblicazione di cui abbiamo parlato finora per accedere al workflow di validazione devo andare qui sotto la colonna azioni cliccare sul menu a tendina e selezionare visualizza selezionando appunto questa opzione mi si riaprirà nuovamente quella schermata che prima abbiamo visto uguale o quasi per l'autore quello che cambia per noi i referenti è quello che vedete qua sopra e c'è anche l'opzione per prendere in carico il lavoro se la seleziono accedo inizialmente ad un'anteprima dell'incarico ora qui vedete soltanto la parte iniziale e finale della pagina ma molti di voi lo avranno già visto avete riassunti tutti i metadati inseriti nei vari step descrittivi dall'autore dunque io referente mi posso fare un'idea di quello che ho davanti e posso e decido in questo caso di accettare l'incarico se accetto l'incarico arrivo al vero e proprio workflow di validazione appunto della nostra pubblicazione in questo caso alla fine di questa pagina mi compariranno le varie opzioni le varie opzioni che posso selezionare per validare il file quindi posso accedere direttamente alla validazione dell'esposizione dei file sul portale pubblico quindi alla validazione dell'allegato posso approvare l'inserimento se l'inserimento del prodotto se lo ritengo diciamo opportuno posso rifiutare oppure come nell'esempio che vi andrò a fare ora posso decidere di modificare i metadati perché magari voglio aggiungere qualcosa che l'autore ad esempio non ha inserito oppure trovo una qualche imperfezione che voglio modificare quindi ho la facoltà di modificare i metadati se seleziono questa opzione dunque vado rientro entro in modifica del prodotto quindi rientro nei vari step descrittivi qui ho aggiunto diciamo una slide intermedia dove vedete la descrizione del prodotto in questo caso sulla scusate la pagina del prodotto sul sito dell'editore se decido di modificare i metadati sarebbe bene avere sempre sotto mano il pdf del lavoro e comunque sia le informazioni relative in questo caso alla pubblicazione stessa ad esempio come ho fatto io in questo caso se vado sul sito dell'editore vedete che ho tutte le informazioni che mi servono come il titolo cioè scusate il nome della sede editoriale il volume la data di pubblicazione come di cui si discuteva poc'anzi così come tutta la diciamo la storia chiamiamola così le fasi successive della pubblicazione di questo lavoro e vedete anche l'ordine degli autori con le relative affiliazioni in questo caso avete anche a disposizione delle informazioni sull'accesso alla pubblicazione ora questa pubblicazione in particolare è di Elsevier quindi vedete come si presenta la pagina sul sito di Elsevier ma questo stesso tipo di informazioni magari distribuzione diversamente le avete sui siti di tutti gli editori in questo caso vedo subito che il lavoro è open access la licenza e la creative commons se clicco su license vado sulla pagina di creative commons così come vi ha fatto vedere prima Silvia e vedo immediatamente posso verificare immediatamente qual è la licenza attribuita al lavoro stessa informazione la trovate anche all'interno del pdf dunque abbiamo detto che in questo caso ho deciso di modificare i metadati e quindi ho revisionato quanto inserito dall'autore nello step 1 nello step 2 di nuovo mi soffermo sullo step 3 perché se ho notato una qualche imprecisione con quanto appunto inserito dall'autore in fase di creazione del record soprattutto riguardante appunto la string autori posso andare a rielaborare quindi facendo modifica string autori posso andare a rielaborarla e ripristinare la situazione che vedo appunto nel file nel prodotto stesso sullo step 5 nello step 5 di nuovo sono sull'allegato e come vedete a differenza dell'autore per un referente validatore avete a disposizione qui l'opzione di validazione se appunto verifico che quanto inserito dall'autore è corretto allora posso direttamente validare il file da qui una volta fatta anche questa operazione torno da dove sono venuto cioè torno all'inizio dell'operazione e di nuovo dalla lista delle opzioni disponibili seleziono approva se appunto visto che ho esaminato il prodotto e lo ritengo adatto per l'inserimento posso se voglio inviare un messaggio all'autore agli autori qui il campo è libero quindi non ci sono non ci sono limitazioni di sorta come vedete il testo che ho inserito io insomma non è proprio il massimo della fantasia potete anche non scrivere nulla una volta cliccato su approva il prodotto risulta inserito correttamente nell'archivio quindi è stato validato e la notifica viene inviata agli autori facciamo però anche un caso diciamo diverso sempre un esempio diverso sempre lato referente l'esempio di cui abbiamo appena parlato è il caso diciamo standard della validazione di un prodotto cioè io mi trovo un prodotto tra gli incarichi disponibili lo prendo in carico lo lavoro e niente poi il lavoro è validato ed è inserito correttamente in archivio però a noi referenti sono date anche diciamo altre opzioni qui per esempio vedete di nuovo una schermata presa dal mio desktop prodotti come in visione di contesto quello che vedete indicato è un un inserimento di prova i cui è una nota tecnica quindi si tratta come diceva Silvia di un lavoro non pubblicato non è un articolo di rivista non è un contributo in atti di convegno è appunto una una nota tecnica le autrici siamo io e lei e il prodotto anche in questo caso deve essere validato dunque come prima seleziono visualizza entro nella pagina del prodotto lo prendo in carico decido di prenderlo in carico stessa schermata che si vedeva prima accetto l'incarico e ritorno appunto sulla serie di opzioni che il sistema mi mette a disposizione in questo caso come avrete visto anche durante il corso che ha erogato cineca ho facoltà anche di decidere di elaborare successivamente questa questa di lavorare scusate successivamente questa questo prodotto dunque se seleziono fai dopo vedete quello a cui si accennava anche prima ovvero e qui chiedo scusa per lo scioglilingua ma è veramente difficile di strecarsi in questa terminologia vedete che tutti gli incarichi disponibili per il nostro istituto sono in questo caso sette gli incarichi disponibili per entrambi in questo caso siamo in due i referenti sono sei perché uno l'ho preso in carico io quindi ho dichiarato diciamo che me ne occuperò io almeno in una prima fase perché se poi e qui siamo nel tab incarichi presi in carico se poi dovessi decidere che non posso per qualsivoglia motivo occuparmi della validazione di questo lavoro allora posso decidere di rimettere al pool di validazione questo prodotto selezionando da qui l'opzione torna al pool se avessi selezionato esegui questa operazione sarei avrei appunto avuto modo di elaborare l'incarico però se seleziono torna al pool vedete che gli incarichi presi in carico tornano a zero in questo caso comunque diminuiscono di uno e gli incarichi disponibili aumentano di uno in questo caso da sei sono passati a sette se appunto qui seleziono torna al pool poi verrà anche inviata nuovamente una notifica ai ai referenti coinvolti appunto nel questo tipo di nella validazione dei prodotti dell'istituto in cui viene detto che il prodotto nota tecnica 2 deve essere controllato prima dell'inserimento in archivio qui apro e chiudo una brevissima parentesi per quanto riguarda il sistema di notifiche lo stiamo lo stiamo studiando e stiamo cercando di capire sia diciamo il suo funzionamento completo sia se come può essere appunto possibile applicare delle modifiche qualora necessario il referente ha anche facoltà di rifiutare un prodotto quindi non per forza bisogna accettare o approvare e qui vediamo appunto cosa succede in iris se il referente opta per per questa soluzione prendiamo di nuovo in considerazione la nostra nota tecnica di prova anche qui di nuovo da azioni vado a selezionare visualizza insomma tutto l'iter che abbiamo visto finora e non lo ripeto andando sulle opzioni di appunto a disposizione scusate del del referente vedete che appunto tra queste abbiamo anche rifiuta se ho avuto modo di esaminare il prodotto e non lo ritengo adatto per l'inserimento posso rifiutarlo se seleziono dunque rifiuta comparirà questa schermata in cui in questa sezione posso anche qui si tratta di un campo a testo libero quindi appunto posso scrivere il motivo del del rifiuto del prodotto ora in questo caso ho inserito un testo anche qui di prova però una delle motivazioni per cui un referente potrebbe rifiutare il lavoro può riguardare l'open access ad esempio in questo caso trattandosi di un prodotto non pubblicato quindi non facciamo riferimento alle varie versioni come preprint postprint o versione pubblicata del lavoro l'autore avrebbe dovuto indicare l'autore o gli autori avrebbero potuto indicare dei riferimenti sulle modalità di accesso al prodotto se queste indicazioni non ci sono e il referente ha necessità di contattare quantomeno l'autore perché queste vengano fornite può rifiutare il prodotto specificando appunto la motivazione o le motivazioni all'interno di questa casella di testo stessa cosa se si dovesse trattare di un prodotto pubblicato ma non abbiamo a disposizione perché l'autore non l'ha caricata la versione adatta per l'open access diciamo per ottemperare alla policy open access e rispettare tutto quanto quello che appunto vi è stato spiegato prima da Silvia posso rifiutare il prodotto e scrivere all'autore che carichi che fornisca la versione adatta consentita dall'editore e adatta per l'open access per rispettare la policy open access se clicco qui rifiuta prodotto vedete che si termina l'operazione e viene inviata una notifica alle persone appropriate in questo caso la persona appropriata sono io o comunque sono tra le persone appropriate perché è anche autrice di questo prodotto e vedete che appunto riceve una notifica all'interno della quale troviamo il testo che ho inserito qua nella schermata precedente questo prodotto ovviamente non è che viene cancellato dall'archivio nel desktop prodotti del referente gli incarichi a disposizione diminuiscono di uno quindi vedete tra tutti gli incarichi non troverete più sotto tutti gli incarichi non troverete più il prodotto che di esempio insomma che abbiamo visto prima che fine ha fatto questo prodotto il prodotto è tornato diciamo al mittente qui vedete la visione personale del del mio iris e ce l'ho tra le bozze quindi il prodotto torna all'autore agli autori e all'interno del loro desktop prodotti ce l'avranno in bozza quindi lo dovranno riaprire e rilavorare diciamo così o quantomeno dovranno andare a inserire le informazioni che noi abbiamo ritenuto mancanti poi il prodotto come già saprete tornerà nuovamente in validazione e però a questo punto per il il referente dovrebbe essere abbastanza semplice perché può accedere direttamente all'approvazione dei dati se questi sono stati opportunamente modificati dall'autore per concludere come vi diceva Silvia ho inserito alcune slide appunto a conclusione della della presentazione riguardanti le licenze creative commons e come applicarle all'interno della piattaforma iris come avrete visto in fase di inserimento di un allegato è necessario se selezioniamo appunto l'accesso pubblico è necessario andare a creare in questo caso la licenza creative commons opportuna quindi bisogna selezionare una licenza le licenze creative commons non mi dilungo ve le ha già illustrate Silvia sono sono sei e in iris le creiamo diciamo così le andiamo ad applicare rispondendo a due semplici domande permetti che la tua opera venga utilizzata a scopi commerciali e permetti che la tua opera venga modificata ora qui ho fatto un po' di simulazioni quindi nella parte alta vedete le risposte date alle domande nella parte bassa scusate immediatamente sotto la la licenza che viene generata allora se rispondo sì alla prima domanda e sì anche alla seconda scusatemi alla prima domanda ho due opzioni di risposta sì o no alla seconda domanda ne ho tre sì o no e condividi allo stesso modo se rispondo quindi ad entrambe le domande sì vedete applicata la licenza CC BY 4.0 che come vi diceva Silvia prima è quella meno restrittiva accanto ho inserito un brevissimo testo che riassume ciò che è consentito o non e o non consentito fare applicando quella determinata licenza per approfondimenti vedete indicato anche il link al sito di creative commons dove troverete una spiegazione molto esaustiva del funzionamento diciamo della licenza quindi cosa è consentito fare cosa non è consentito fare se alla prima domanda rispondo sempre sì e alla seconda invece rispondo no la licenza che si genera è la CC BY ND sempre 4.0 dunque la paternità dell'opera deve essere attribuita ma c'è il divieto di distribuzione di materiale derivato dall'elaborazione dell'originale comunque come vi dicevo tutti i dettagli li trovate sul sito di Creative Commons posso anche rispondere come vi dicevo sì alla prima domanda e condividi allo stesso modo alla seconda in questo caso la licenza che si genera sarà CC BY STA quindi share e like dunque il materiale distribuito deve rispettare la licenza dell'opera originale e invece se rispondo no alla prima domanda fondamentalmente non consento alla mia opera di essere distribuita a scopi commerciali quindi rispondendo no alla prima domanda e sì alla seconda attribuirò al mio lavoro la licenza CC BY NC sempre 4.0 rispondendo no ad entrambe le domande applicherò la licenza CC BY NC che come diceva prima Silvia è la licenza più restrittiva nel panorama delle licenze Creative Commons mentre se rispondo no alla prima domanda e condividi allo stesso modo alla seconda applicherò la licenza CC BY NC SA dunque non l'opera non può essere distribuita a scopi commerciali e il materiale elaborato deve essere distribuito con la stessa licenza dell'opera originale come ultimissima cosa ricordo quanto detto già prima da Silvia sul pubblico dominio in Iris avete la possibilità anche di applicare la licenza CC0 public domain ma non si tratta di una licenza CC BY si tratta appunto dell'attribuzione del pubblico dominio alla propria opera quindi a questa opera non verrà riconosciuta neanche cioè l'autore scusate applicando questo tipo di licenza permetterà che la sua opera vada nel pubblico dominio dunque non venga attribuita neanche la paternità all'opera stessa non gli sarà riconosciuta neanche all'autore non sarà riconosciuta neanche la paternità dell'opera niente quindi con le slide con la presentazione abbiamo finito vi ringrazio per l'attenzione e anche a nome di Silvia e qui trovate i contatti del del gruppo di lavoro che ringrazio anche le altre colleghe che rispondono al helpdesk e alla lista prodotti della della ricerca e niente e lascio interrompo la condivisione così possiamo vedere le domande e mi taccio ok allora io partirei da rispondere alle domande che sono in chat poi chiaramente risponderemo anche alle domande per alzata di mano dunque stavo cercando di ritrovare delle cose che alle quali non mi sembra sia già stata data una risposta ok allora ditemi poi se ho saltato se ho saltato qualcosa parto da questa perché inserire il prodotto è questa avevamo già risposto quindi la domanda successiva è spesso l'articolo viene scritto sul template per cui la versione post print è molto vicina sì va che è quello che avevo detto prima e se è la versione se quella che poi vedete nonostante sia simile la versione editoriale ma non è la versione finale è la versione già revisionata dall'editore e accettata per la pubblicazione potete usarla sì per il deposito come post print a volte la terminologia non è semplicissima a volte magari a noi gli autori ci dicono ho il camera ready ho il camera ready camera ready cos'è noi gli diciamo quale versione è è già referata è già accettata ok è il post print perché alcuni lo usano in riferimento al pre print altri lo usano in riferimento al post print quindi è necessario chiarirla questa cosa però in realtà cioè è l'autore stesso che quando deposita ce la scrive questo io lo dico per i referenti che non si sentano investiti diciamo di una responsabilità ancora maggiore magari di quella che hanno perché comunque è l'autore che ha questa informazione è l'autore che ha il file per cui non è che noi possiamo inventarcelo questo è un commento poi c'è grazie Margherita se non è previsto qui hai già risposto Anna rispondo scusa Silvia rispondo proprio al volo a un commento che ho visto arrivare dalla dalla chat metteremo a disposizione anche le slide certo oltre alla registrazione questo abbiamo risposto ci metteremo anche una licenza si si bai allora qui c'è una domanda andrebbe controllato in qualche modo che le strutture cnr indicate nell'inserimento siano effettivamente quelle riportate nella pubblicazione allora qui c'è da fare un discorso che penso possa interessare tutti che non riguarda strettamente l'open access ma riguarda appunto d'altronde anche la domanda non è strettamente connessa all'open access ma riguarda più che altro il funzionamento di Iris allora come sapete Iris non aveva previsto l'utilizzo del campo strutture non è nella logica di funzionamento di Iris quindi noi le abbiamo chieste perché invece noi in people eravamo abituati e diciamo people si fondava in qualche modo anche sulle strutture cnr quindi cosa è successo allora così si approfitta anche per dare un chiarimento proprio generale anche ai diversi colleghi con cui abbiamo parlato di queste cose in chat o per mail eccetera il campo strutture cnr è stato alla fine aggiunto quello che riporta nella scheda mi sembra breve del prodotto sono le strutture appunto che o arrivano da people quindi quelle che erano in people per i prodotti importati quelle che vengono inserite da chi deposita per i nuovi inserimenti questo campo strutture cnr struttura organizzativa nella ricerca avanzata c'è ma non va a cercare sulla struttura organizzativa quindi va a cercare sulla filiazione degli autori quindi non c'è modo di fare una ricerca per struttura organizzativa se non dalla home page del portale dove invece le strutture organizzative che sono visibili e selezionabili sono state associate ai prodotti quindi questo per chiarire quindi intanto anche se avesse lavorato sul campo struttura sulla struttura il ricerca avanzata se quel campo avesse estratto i prodotti di una struttura non si sarebbero potuti vedere i prodotti delle sede secondarie perché in People non era quando si inseriva il campo struttura CNR non si inserivano le sedi si inseriva l'istituto tranne quei casi tipo l'IBB mi viene in mente l'IBB l'IBB ha l'IBB sede di Napoli e così è stato importato in Iris ok quindi diciamo le sedi secondarie servono soprattutto per gli autori cioè per le affiliazioni degli autori su questa cosa stiamo valutando stiamo cercando di capire se quelle che mancano quelle che non mancano cercare di capire anche se valga la pena inserirle o se non convenga mantenere solo la dicitura dell'istituto in ogni caso ripeto non cerca sul campo struttura organizzativa quel campo di ricerca avanzata cerca nell'affiliazione degli autori poi per quanto riguarda il controllo certo il controllo va fatto cioè è chiaro che se un autore è di IFT deve essere inserita la struttura IFT questo però diciamo fa parte della verifica che si fa sui metadati del prodotto però la riconducibilità a un istituto piuttosto che a un altro si ha dalla pagina pubblica del portale non so nemmeno vi dico la verità se è già funzionante questa cosa perché ci dovevano lavorare e dovevano anche creare un campo di ricerca perché è molto lavorioso trovare la struttura voluta in mezzo a quell'elenco lì per cui l'abbiamo chiesto poi la collega diceva io non so niente di licenze si si vai sono la sola non si potrebbe chiarire meglio questo aspetto io non so se nel frattempo è stato un po' più chiaro se c'è bisogno di qualcosa e quindi chiedo alla collega eventualmente di chiedere quello che non le è chiaro o comunque quello che che è rimasto diciamo un po' così nell'incertezza qui vedo che Anna aveva risposto quindi appunto non so se si è chiarito poi il discorso allora i referenti non autori come capiscono in quale pathway il prodotto rientra leggono quello che c'è scritto su Sherpa Romeo ora se questa come ho visto anche un'altra risposta che a nessuno è chiaro il pathway allora il pathway se volete ci torniamo un attimo sopra mi riprendo le slide torno in condivisione individi e me la riporta vado così allora queste sono le indicazioni che troviamo qui quindi c'è anche da tenere conto di questo che se un autore ha pagato per pubblicare open access può usare la published version nel senso la può depositare senza embargo con la licenza che è stata attribuita quindi però la licenza al solito è assegnata dall'editore cioè l'autore quando firma il contratto o completa una sottomissione dopo l'accettazione che la completi anche online per cui magari è un po' veloce quindi magari non pone abbastanza attenzione su quello che gli viene proposto però la licenza è indicata quindi si guarda sul file la licenza si si buy si deposita è raro e ci sono alcuni casi ci sono capitati durante la scorsa VQR in cui magari è autorizzato il deposito del post print e del pre print ma non quello della versione editoriale anche se è open access però tendenzialmente la versione pubblicata quando prevede che sia pubblicata dietro un pagamento ma anche sotto un contratto trasformativo cioè se un autore utilizza le agevolazioni dei contratti trasformativi che appunto prevedono che il pagamento sia effettuato dall'ente e non dal singolo autore per quanto riguarda l'open access non altri tipi di spese è utilizzabile è depositabile e può essere aperta sin da subito quindi detto questo non so se c'è qualcos'altro chiederei appunto alle persone che avevano dei dubbi se c'è qualcosa in particolare che sfugge a questo su questa cosa scusami Silvia posso intervenire sono Stefania Frida avevo alzato la mano sì io credo che il problema principale sia non tanto allora per carità noi referenti stiamo facendo questa formazione spinta e quindi stiamo capendo sempre di più questo aspetto io questa cosa di Sherpa Romeo l'avevo già affrontata quando si è trattato della VQR quindi avevo avuto modo di approfondirla insieme al direttore e quindi va bene il problema secondo me è che sono veramente poco formati i ricercatori che inseriscono i prodotti perché io avevo alzato la mano per un problema specifico cioè io nel mio workflow mi trovo delle cose che posso prendere in carico in cui sono stati inseriti dei file legati di cui io non capisco proprio cosa sono nel senso se sono un post print un pre print non c'è scritto niente in quei casi io come mi devo comportare perché se è stato inserito un articolo pubblicato io allora posso andare a vedere sul sito dell'editore la regola appunto di di accessibilità posso capire se sono state inserite le le licenze creative e va bene ma se mi inseriscono un file generico che io non sono in grado di interpretare a quel punto che faccio lo rifiuto e basta gli dico devi andare a capire che tipo di file dovevi inserire questa con questa situazione puoi fare così o puoi semplicemente lasciarlo in bozza e chiedere all'autore noi tendenzialmente gli mandiamo un'email ai nostri autori sì ma scusa Silvia se intervengo anch'io ma è quello che appunto cercavo di spiegare nella mia parte di presentazione appunto come giustamente hai notato te Stefania abbiamo a disposizione l'opzione rifiuta l'opzione rifiuta non significa il lavoro fa schifo significa molto spesso abbiamo bisogno di informazioni aggiuntive aggiuntive scusami perché il prodotto possa essere validato tant'è che il lavoro non è che sparisce dall'archivio non viene cancellato torna nelle bozze dell'autore quindi diciamo ci risparmia tra virgolette anche la fatica di mandare un'email come abbiamo fatto per dire io e Silvia finora con i nostri autori perché scriviamo direttamente nel box la motivazione per cui il prodotto viene rifiutato e una delle motivazioni può essere quella che dici tu cioè non ho abbastanza elementi per capire di che versione si tratta cioè scusami qual è la versione che tu hai caricato nel come file ma io so che la risposta sarà ma io non lo so che versione devo caricare cioè perché non hanno la parte di formazione tu gli fai tu gli fai la domandina strategica è la versione già revisionata e accettata dall'editore o è la versione che tu hai sottomesso e lui ti dirà lo saprà almeno questo lo saprà perché magari non sa quali sono le politiche dell'editore sulla sulla pubblicabilità ecco perché magari non l'ha verificato su Sherpa Romeo certo questo però appunto va visto è questo anche uno dei compiti è quello di vedere se ha assegnato magari i diritti giusti per l'accesso e poi nella maggior parte dei casi mi trovo pubblicazioni che magari sono di un mio ricercatore sì ma magari in collaborazione ecco con altri due o tre istituti del CNR a quel punto io sto facendo questa cosa quando magari la sta facendo in contemporanea anche no perché l'ho presa in carico io cioè io lo posso fare quando lo prendo in carico giusto perché gli altri referenti a quel punto non lo faranno sono certe che non lo faranno perché l'ho presa in carico io ok chiaro ci sono delle cose che sinceramente sono un po' devono essere un po' lasciate anche all'organizzazione dell'istituto noi per esempio anche in caso di coautori di altri istituti chiediamo ai nostri poi semmai saranno loro a confrontarsi con i coautori oppure se proprio era possibile magari noi con People usavamo l'email appunto uno mette in copia tutti gli autori quando fa arrivare il messaggio mi resta il dubbio che avevo già espresso per email e Anna mi aveva già risposto a questa cosa che effettivamente quando abbiamo situazioni in cui sono coinvolti più referenti perché ci sono più istituti chi è che decide chi se lo prende in carico cioè non c'è una regola non l'abbiamo stabilita quindi forse questa andrebbe capito questa cosa perché perché mi dovrei cioè perché se no il dubbio il rischio è che nessuno se lo prende in carico per non fare il lavoro cioè lo lascia sempre lì invalidato questo lo so questo lo so si può trovare anche un cioè si può trovare un punto su quale tutti concordiamo e dire allora il prodotto lo prende in carico il referente del primo autore il referente del corresponding autore ecco mi vengono in mente queste due in prima battuta lo prende quel referente poi se quel referente non lo prende se lo prenderà qualcun altro cioè un criterio diciamo potrebbe anche essere questo probabilmente ce ne sono anche altri non lo so sì ti faccio l'esempio per del di una regola che ha stabilito il nostro direttore questo per l'inserimento dei prodotti all'interno del nostro istituto il prodotto lo inserisce o dovrebbe inserirlo il primo autore se non ricordo male qualora il primo autore sì qualora il primo autore fosse una persona nuova che quindi non è pratica del sistema dell'archivio dei prodotti e di di tutte le tematiche di cui abbiamo parlato dovrebbe essere responsabilità del proprio referente questo faccio l'esempio di dottorandi o persone del genere del proprio referente che lo istruisce ho capito grazie prego allora no questa responsabilità dovrebbe restare in capo all'autore se si fa riferimento al pathway sempre se si fa riferimento solitamente sì perché comunque l'autore assegna cioè carica il file assegna al diritto d'accesso poi il referente lo guarda e se c'è qualcosa che non va glielo glielo fa presente come abbiamo detto adesso il nostro iris è classificato come institution a repository sì poi su questi path ci siamo già tornati ma la preferenza è di inserire comunque in iris la versione editoriale del prodotto no allora diciamo che la policy cnr anche in funzione della vqr prevedeva l'inserimento della versione comunque pubblicata anche ad accesso chiuso e poi di una versione per l'accesso aperto quindi se la versione editoriale è open access ne basta una se la versione editoriale era chiusa ci doveva essere un preprint o un postprint per l'open access ok adesso anche il riferimento alla vqr cioè l'ultimo bando prevede che sia valutabile anche il postprint quindi il preprint è un po' uscito dai giochi no i valutatori i serve valuteranno o la versione pubblicata finale dell'editore o il postprint quindi non è che c'è una preferenza o l'uno o l'altro o entrambi come uno vuole la completa modificandola e non riaprendola perché se la riapre la dobbiamo controllare due volte gli saranno date istruzioni di utilizzare la funzione modifica no riapertura bisogna vedere anche che cosa che cosa deve fare insomma se serve una riapertura o no se il lavoro preprint caricato su iris non è accettato per la pubblicazione deve essere rimossa no non deve essere rimossa anzi diciamo può rimanere quello che probabilmente converrebbe fare è modificare la tipologia cioè non è un articolo in rivista magari perché non è stato accettato per la pubblicazione però è un lavoro importante è un lavoro scientifico è un lavoro che io voglio a cui voglio dare visibilità magari lo metto come rapporto tecnico come relazione scientifica come tutta una serie di tipologie che ci sono a disposizione che possono essere usate però non non necessariamente deve essere rimossa allora per la VQR progressione di carriera sì la VQR ammette l'online first quindi non ci sono problemi da questo punto di vista cosa succede alla scadenza dell'embargo indicato questa è una bella domanda nel senso che non abbiamo avuto modo di verificare il che cosa succede però dovrebbe arrivare un alert per cui cambia il diritto di accesso non so se io penso che si debba intervenire però questo non lo sappiamo infatti però Silvia se non ricordo male dal alcuni confronti che abbiamo avuto con Cineca ci avevano detto che ad esempio negli iris utilizzati nelle università succede quanto detto da Luca cioè che dopo la data di scadenza dell'embargo il file viene aperto automaticamente meglio non l'abbiamo visto nel senso provato ecco però sì io non me lo ricordo sinceramente però se te lo ricordi tu Anna che hanno detto questo va benissimo però sì certo lo dobbiamo verificare non dovrebbe essere un problema ma non ci siamo ancora trovate nella situazione di sì qui c'è un commento appunto iris sono archivi documenti quindi sì certo è un errore è un duplicato quindi non è che un autore può dire ma a me che me ne frega se è stato inserito nel 2023 onestamente insomma io direi che è logico che arriva una duplicazione no quindi sì siamo al question time quindi non sarebbe sufficiente cambiare l'anno eh però questo può avere un impatto perché se tu fai dei rilevamenti quando la pubblicazione è magari datata anno di pubblicazione 2022 ti esce poi non uscirebbe più e uscirebbe magari nel 2024 quindi questa è la ragione per cui noi all'istia abbiamo detto la data di pubblicazione rimane quella altrimenti era tutto un leve e metti anche se dovevamo fare dei report o delle o dare al direttore delle indicazioni sui numeri delle pubblicazioni sui numeri delle pubblicazioni dei nostri laboratori di ricerca poi questa informazione è falsata se tu cambi l'anno un lavoro sottomesso a pubblicazione che valore ha il valore della diffusione della diffusione e della condivisione quindi Anvur ora non lo ammette più fino all'altra VQR andava bene anche come versione Open Access il il preprint in questa VQR l'Open Access si dà per scontato e quindi si dice dammi il DOI dimmi dove si trova il lavoro punto e non chiedono altro ti interrompo per una questione tecnica diverse persone dicono a me che ho il video condiviso ma credo sia il tuo sì sì ok perfetto bello della diretta scusate lo sapevo io lo sapevo ma io faccio sempre confusione è un classico ok quindi allora vediamo un po' poi che cosa c'è come fare per inserire autori co-first in che senso cioè sono gli autori quando si co-first cosa a cosa si riferisce esattamente autori co-first posso intervenire certo ho fatto la domanda buongiorno allora c'è una discrepanza diciamo tra quello che si vede sulle diapositive che sono allegate al primo corso di formazione quello che sono sulla piattaforma diciamo e quello che è la realtà dei fatti ovvero quando si inserisce gli autori sulle slides presentate appunto sulla piattaforma c'è la possibilità di scegliere non solo la posizione primo o secondo dell'autore ma anche di inserire il fatto che a volte spesso volontieri ci sono degli autori che sono co-first ovvero sia il primo e il secondo autore sono sostanzialmente primo ex e co allo stesso modo esistono anche dei casi dove ci sono degli autori che sono co-last e che hanno diciamo la stessa identica il stesso identico valore diciamo nella proprietà del lavoro questa possibilità ripeto sulle slides inizialmente fornite c'era una una colonna che si apriva a tendina e che consentiva di segnalare se appunto era co-first co-last e così via cose che nella concretezza attualmente non riesco a fare non riesco a inserire un co-first allora c'è la tendina al punto 3 della descrizione quindi quello che riguarda la string autori e la validazione la messa a punto della string autori ci sono c'è una tendina che permette di indicare il ruolo ora non mi pare di aver mai visto la voce co-first co-last ci sono una serie di responsabilità che possono essere attribuite tra le quali anche quella del corresponding author però ecco diciamo quello che potremmo fare è chiedere se in questa tendina possono essere aggiunte altre voci che magari ce ne sono pure fin troppe che non servono e magari appunto sappiamo che in alcune discipline non è il nostro caso ma in alcune discipline è importante il primo autore l'ultimo autore insomma la posizione nella stringa quindi quello che possiamo fare è chiedere a Cineca se fosse possibile rivedere questa casella di testo a discesa inserendo magari appunto le diciture che lei suggerisce ok grazie grazie prego questo avevo già risposto e qui pure poi riguarda il pool allora quello che credo abbia intenzione di fare Giovanni De Simone è inviare nuova mail come ci sono state molte mail in cui i direttori segnalavano togliete questi referenti aggiungete questi altri abilitate questi questi no eccetera eccetera quindi probabilmente verrà mandato un'email ai direttori in cui in modo da avere delle conferme e arrivare a una lista definitiva di referenti che poi come qualcuno ha chiesto giustamente potrà essere condivisa anche dal portale stesso di Iris che probabilmente è la soluzione più comoda insomma piuttosto che inviare file a destra e a manca viene fatto un elenco viene posto sul portale in modo che sappiamo chi è il referente di quell'istituto che ci serve magari contattare perché c'è da chiarire qualcosa una volta avuto il i nominativi definitivi tutti i referenti verrà formalizzato un incarico a quel che ci hanno detto un incarico formale dell'ente a tutti i partecipanti al gruppo di lavoro chi dà l'accesso in modo che ognuno prende in carico prodotti allora perché qui c'era forse una domanda a monte che riguardava creare un pool per disciplina ai referenti di gruppi in modo che ognuno prende in carico prodotti che conosce ma tendenzialmente gli istituti hanno un referente per cui le discipline del proprio istituto tendenzialmente le conosce il referente forse non ho capito bene la domanda però ecco credo che sia implicito nel fatto che è il referente di quell'istituto scusa Silvia poi ho visto la specifica intendevo un pool di referenti per ogni istituto ci sono già dei pool di referenti per ogni istituto nel senso che qualche istituto ha chiesto di avere più persone nel caso di autori di istituti molto grandi quello che sarà comunicato è che comunque ci deve essere un solo referente quindi noi potremo abilitare anche più persone in iris però ci deve essere un solo referente che scusate il bisticcio di riferimento per la sede centrale nel senso che la sede centrale se deve comunicare qualcosa parlare con qualcuno non è che può scrivere a 10 referenti scrive al referente quindi quello che sarà chiesto ai direttori sarà una conferma anche di indicare un nominativo come coordinatore del gruppo di referenti allora ma nel caso di tipologie diverse da articoli in rivista come gli abstract in atti di convegno quali allegati bisogna inserire e come selezionare le licenze dipende se se in atti di convegno è pubblicato quindi la versione pubblicata dell'abstract chiuso o aperto a seconda di quello che se è chiuso non deve assegnare nessuna licenza se è aperto assegnerà la licenza che è stata data a quella a quel volume ai singoli contributi di quel volume sì Silvia qui aggiungo una cosa perché erano state fatte un altro paio di domande credo più avanti sempre riguardo le licenze come ho cercato di spiegare anche prima chi inserisce l'allegato al lavoro deve riprodurre la licenza che c'è sul lavoro quindi se è presente una licenza CC BY che ci dice che il lavoro è open access andrà a rispondere a quelle domande che ho illustrato brevemente prima insomma ricreando quelle combinazioni per cui poi si genera la licenza corrispondente a quella che si trova sul lavoro quindi per completare la tua risposta alla collega anche nel caso di altre tipologie scusate di materiale pubblicato il discorso è lo stesso cioè vado a verificare le condizioni di accesso sul prodotto sul sito dell'editore e se necessario replico lo stesso tipo di licenza che vedo nel prodotto però questo lavoro in primis lo dovrebbe fare chi inserisce il lavoro quindi teoricamente l'autore va bene allora vuoi continuare tu Anna a rispondere da qui per validare il bitstream come bisogna procedere ora questo vabbè il flutto è lo stesso di quello visto ora però come abbiamo detto già a diverse persone se all'interno del vostro istituto siete avete diciamo file chiusi che quindi diciamo possono essere validati ma rimangono nello stato di chiuso questi file saranno risulteranno validati ma non saranno visibili pubblicamente oppure se avete file che sapete essere corretti dal punto di vista dell'allegato depositato e dei diritti di accesso si può chiedere una validazione complessiva di tutti gli allegati di tutti i bitstream che risultano la voce io veramente ogni volta che la dico mi chiedo perché non si siano chiamati semplicemente allegati comunque vabbè si può chiedere una validazione globale io prima cercavo di rispondere sulla chat perché era abbastanza ma non ho capito cosa sia successo non riesco più a rispondere ai messaggi scusate nemmeno io al collega che scrive scusi sono Cipriano relativa alla domanda che stava spiegando prima la collega Giannini per quanto riguarda il bitstream praticamente ci siamo trovati nella pagina di contesto il nuovo tag bitstream da validare che quando abbiamo fatto l'esercitazione non vedevamo perché non erano state caricate ancora le pubblicazioni quindi era praticamente a zero questo significa che tutti quanti i lavori che avevano un allegato sono andati a concluire in quel bitstream da validare attualmente diciamo gran parte di quei lavori sono chiusi nel senso che sono stati depositati oppure inseriti per la bookware negli anni passati ora è una per esempio che non è molto grande ma ci sono più di 1350 bitstream da validare fare un'operazione del genere è praticamente quasi impossibile volevo sapere ma bitstream da validare non espone il prodotto all'esterno o non espone solo l'allegato questa era la domanda principale non espone solo l'allegato quindi si vede la pubblicazione ma l'allegato no a questo punto visto che molti sono praticamente già che non fanno vedere l'allegato a meno che non erano quelli della VQL che dovevano essere esposti per la valutazione e così via si potrebbe chiedere una validazione complessiva di tutti i bitstream che ci sono si potrebbe chiedere ripeto allora se sono chiusi perché i file si sono portati gli allegati si sono portati dietro il diritto d'accesso di People quindi se in People erano chiusi in Iris risulta ND non disponibile quando in People era stato assegnato il diritto di accesso privato oppure risulta accesso ristretto riservato quando in People avevano riservato come diritto di accesso quindi se sono chiusi sono chiusi rimangono chiusi non è che la validazione li apre automaticamente quello che può essere conveniente a seconda di quanti prodotti ha un istituto in accesso aperto è andare a verificare che quelli in accesso aperto siano giusti siano corretti che l'allegato sia stato depositato quello giusto che il diritto di accesso pubblico vada bene o meno si può sicuramente anche lavorare in questi termini un'altra cosa importante nella barra dove c'è la visualizzazione del titolo e così via porta soltanto ultima modifica come data e i ricercatori stanno chiedendo in continuazione di avere una situazione normale per vedere l'ordine eventualmente della data a cui è stata assegnata la pubblicazione perché attualmente risulta impossibile analizzare le pubblicazioni se questa cosa può essere chiesta al Cineca di inserire questo tab già stata chiesta allora a parte il fatto che si può intervenire sul campo colonne deselezionare la visualizzazione del campo ultima modifica attivare la data che è la data di pubblicazione e ordinarla in modo crescente o decrescente quindi dal più recente al più però noi abbiamo chiesto che possa essere settata di default una data cioè l'organizzazione dei risultati della ricerca per data decrescente non ci hanno ancora risposto su questa cosa però l'abbiamo già chiesta per quanto riguarda il portale pubblico invece quello appunto che vedono tutti senza accesso riservato lì le interfacce non succede inizierà ora il lavoro insomma di organizzazione del portale quello che potremo vedere non vedere eccetera eccetera lì per quanto riguarda la restituzione dei risultati bisogna capire che margine di intervento possiamo avere perché a Cineca ci hanno detto che l'interfaccia pubblica è altamente personalizzabile però ecco dovremmo capire quanto è personalizzabile questo lo farà il collega della sede centrale Gianluca Troiani che è il collega che si è occupato insieme ad altri anche dell'import dei dati da People e potremo potrà collaborare con noi cercheremo di capire come poter esporre al meglio i prodotti con un'ultima scusi solo un'ultima domanda che i cerchiatori mi hanno chiesto più di una volta in People c'è la possibilità di inserire anche i progetti quando uno è responsabile di progetti e così via in Iris non c'è allora in Iris c'è la possibilità di selezionare un progetto al quale la pubblicazione è agganciata però il CNR ha acquistato anche un modulo progetti per cui tutte le informazioni su un progetto dovranno essere gestite con un altro modulo che lavorerà ovviamente in modo immagino integrato con i prodotti della cera ho capito come era quella della gestione delle risorse diciamo sostanzialmente che si parlava in Iris all'inizio simile a quelli va bene la ringrazio prego io cercavo dicevo prima cercavo di rispondere al collega che chiedeva nel caso di una pubblicazione che ha anche materiale supplementare vanno allegati entrambi i pdf perché no mi verrebbe da rispondere ovviamente sempre rispettando i diritti di accesso anche al materiale supplementare cioè qualora per dire la pubblicazione il testo della pubblicazione intendo fosse ad accesso aperto e il materiale supplementare prevede un qualche tipo di restrizione per cui non può non può essere distribuito appunto ad accesso aperto si può selezionare accesso aperto per il testo della pubblicazione mentre ristretto per il materiale supplementare diciamo che Iris non è che pone qualche tipo di limite al numero di allegati che può avere un singolo prodotto per dire per un singolo prodotto faccio l'esempio noi potremmo avere sia il preprint il postprint la versione pubblicata il caso per dire di alcuni dei nostri autori che si sono abituati saranno già abituati in people a depositare tutto quello che avevano a disposizione e ce lo mettevano tutto Iris prevede di fare la stessa cosa qui scusate provo ad andare avanti con le domande che vedo nella chat c'è qualcuno che chiede il validatore quindi dovrebbe controllare la veridicità di tutto ciò che viene riportato dovrebbe verificare la correttezza diciamo così dei metadati del scusate dei metadati del prodotto e poi validare il file siccome sono io questa persona vergine dell'IRSA sì ciao salve mi sembra che sia un po' cioè è ancora in itinere chiaramente quindi è qualcosa che sarà perfezionata nel tempo però siccome ci sono un sacco di cose ancora incerte nell'utilizzo di Iris affidare al validatore la verifica di cose che ancora i ricercatori non sanno per intero di un processo che ha delle falle e che saranno perfezionate nel tempo mi sembra eccessivo secondo me sarebbe più opportuno definire una serie di cose che tocca aspetto al validatore confermare per esempio potrebbe essere il fatto dell'open access potrebbero essere il fatto dei nomi o dell'istituto punto cioè 3-4 cose e il resto responsabilità del ricercatore se qualcosa non sta funzionando ancora perché i ricercatori hanno tutte queste domande non sanno come si inseriscono i prodotti probabilmente dovremmo fare una procedura più chiara e col tempo si farà però in questo momento lasciare che i validatori verifichino tutto ciò che non è ancora chiaro e che verrà fatto male sicuramente nei prossimi mesi mi sembra qualcosa di troppo complesso proprio i validatori io ti dico la verità non so se ho ben capito la domanda nel senso io ti risponderei dicendo anzitutto Iris è nuovo per tutti quindi è nuovo in primis per noi per noi intendo anche per me e per Silvia che magari abbiamo avuto modo di fare qualche prova in più rispetto a voi però tante cose le abbiamo imparate e le stiamo imparando anche grazie alle vostre segnalazioni per quello chiediamo anche sempre di farci degli esempi in modo tale da poter approfondire quello che già sappiamo detto questo ti rispondo nella stessa maniera in cui ti rispondevo prima cioè noi referenti validatori insomma persone di riferimento dell'istituto per il deposito dei prodotti nell'archivio istituzionale quello che dobbiamo fare fondamentalmente è una verifica non 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 è che dobbiamo andare come dicevo prima a Stefania non è che dobbiamo fare delle modifiche importanti cioè qualora un'informazione noi non siamo in grado di reperirla dal prodotto stesso perché quello che dobbiamo fare è rispettare la descrizione del prodotto quindi abbiamo davanti il file quello che c'è scritto sul file deve deve essere anche nei vari tab di descrizione in Iris qualora c'è qualcosa che non ci torna ok questa risposta mi sembra che mi stia chiarendo parecchio cioè praticamente tu dici il mio riferimento è il file che mi viene mandato controlla che quello che c'è sul file corrisponde a ciò che viene scritto perfetto ho capito grazie certo noi non dobbiamo andare a cercare la licenza piuttosto che ma la licenza la licenza scusami la licenza ce l'hai sul file tutto ciò che sul file non viene riportato io devo vedere la corrispondenza di ciò che sta sul file compreso licenza sede tutto il resto rispetto a ciò che viene scritto ok perfetto il principio di massima la regola diciamo di massima è quello non so se è quello che insegnano per dire a noi bibliotecari nei vari corsi moduli di catalogazione cioè tu descrivi quello che hai davanti fondamentalmente così sono più tranquillo grazie grazie a te scusa Anna posso fare una domanda relativamente ai bitstream da validare che sia quella di precedente anche noi diciamo io sono referente dell'IBB e c'ho 1500 bitstream da validare poi tra gli incarichi ce ne sono 13 ora i bitstream da validare capisco che sono quelli là che sono stati importati da People perché poi sono andata a vedere e ovviamente qualcuno c'ha l'allegato con un file pdf ma non disponibile mentre diciamo con dei bit nei incarichi da assumere non li ho aperti perché diciamo non riesco a capire se sono quei nuovi nuovi articoli che i ricercatori hanno messo ora sì e quindi sono incarichi voglio dire sono tutti riferiti non solo ai bitstream ma anche al metadato penso allora i bitstream come diceva Silvia purtroppo è un termine anche secondo me orrendo però comunque che vuol dire allegato perché ci avete detto che sono divisi i metadati e i bitstream il prodotto allora esatto il prodotto in iris ha la parte relativa all'allegato e la parte relativa ai metadati che sono i metadati descrittivi del prodotto con cui appunto descriviamo la nostra pubblicazione o prodotto in generale per quanto riguarda i bitstream appunto come dicevo significa fondamentalmente allegati adesso se non ho capito male la tua domanda dentro iris avrai il tab bitstream da validare con n prodotti 1.157 esattamente quelle che sono ognuno ce n'ha un tot te lo posso assicurare penso che era detto nelle vecchie riunioni nelle precedenti riunioni che erano quelli importati direttamente da people che dicevo stavo arrivando stavo arrivando giusto lì cioè lì si parla degli allegati di un lavoro eventualmente da fare sugli allegati per come sono stati importati da people quando invece fai riferimento agli incarichi quelli si riferiscono a i lavori i prodotti che sono stati inseriti adesso cioè dopo che la piattaforma è stata aperta ai ai referenti quindi si scusa i miei ricercatori va bene quindi era giusto quello che era esatto incarichi tutta quella gincana di parole tra incarichi presi in carico incarichi quello che spiegavano prima esatto si riferisce al workflow di validazione noi siamo un gruppo di lavoro diciamo come ho chiesto a Silvia di inserire perché ovviamente da sola diciamo come referente però ci sono altri colleghi e poi volevo chiedere un'altra cosa io sono le BBB che Silvia diciamo ha nominato prima come sede di Napoli infatti ora quando mi capita ci capita di vedere un prodotto della sede noi a Napoli abbiamo una sede principale una secondaria e poi abbiamo una sede di Torino quando ci capita di vedere un prodotto di un ricercatore della sede di Torino che dobbiamo validare lì dobbiamo se non è indicato sede di Torino cioè come bisogna procedere dobbiamo validarlo anche se non è indicato sede di Torino lasciamo indicato sede i BBB in generale quindi perché per altri tutti ho visto che ci sono sede secondarie di 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 diciamo di città insomma sì questo è quello che dicevo prima allora non è del tutto chiaro nemmeno a noi quali allora noi sappiamo che sono è stata usata una tabella proveniente da UGOV perché comunque il popolamento dell'anagrafica Miris è stato fatto utilizzando UGOV e poi delle tabelle cosiddette di frontiera nelle quali sono state inserite tutta una serie di informazioni che sono state passate ai colleghi del Cineca per completare diciamo le info dell'anagrafica per quanto riguarda la tabella delle strutture che è stata utilizzata abbiamo visto anche noi che talvolta per esempio mi viene in mente l'istituto di Ornella di Ornella Russo l'IMM nella tabella utilizzata perché appunto abbiamo chiesto spiegazioni a Cineca risulta l'istituto IMM quindi non ci è chiaro di quando sia avvenuto il popolamento dell'anagrafica con le sedi secondarie soprattutto non ci è chiaro perché alcuni istituti le hanno e altri no quindi su questa cosa qui dobbiamo un attimo riparlare anche con i colleghi con gli informatici che hanno seguito l'import cerchiamo di capire da dove sono arrivate certe informazioni cosa convenga fare perché in realtà come dicevo prima questo campo è funzionale solo all'affiliazione dell'autore ok non è e non ci sarà possibile cercare per struttura organizzativa quindi non so se valga la pena o meno mantenerla è una cosa sulla quale ci dobbiamo confrontare quello comparirebbe sulla scheda nella scheda tra l'appartenenza insomma nel campo dell'appartenenza sì esattamente quello diciamo è solo la cosa però ovviamente noi che dobbiamo validare quello diciamo possiamo validare se indicato in generale anche sapendo che magari sarà indicato i BB di Napoli sede di Napoli questo dipende voi avete chiesto perché ve l'ho fatta io l'abilitazione a tutte le sedi no quindi vuol dire che il vostro direttore quindi perciò poi ho rimandato ho chiesto diciamo questa cosa perché vedevo che altri istituti avevano altre sedi ed il nostro no però questo sì ma io che appunto dicevo da dove è stato preso questa voi risultate proprio così in questa famosa tabella che è stata mappata che l'ho spiegato chiaramente diciamo mi hai fatto riferimento proprio a noi esattamente sì perché era appunto un caso che avevo ben presente avendo fatto l'abilitazione e tutto e quindi l'ho portato ad esempio ma anche quello di Ornella che con Ornella siamo stati lì a vedere fare ricerche appunto per le sedi secondarie eccetera ma è del tutto inutile farle no voglio dire non è giusto per capire diciamo se hai fini e la fine del BQR l'IBB è quello l'istituto è unico esattamente esattamente è solo un problema del ricercatore di quale se la sta ma l'istituto è lo stesso io aggiungo una cosa Silvia ciao sono Ornella io ho visto la differenza la fa nell'interfaccia pubblica col filtro strutture organizzative nel senso che quando si inserisce tutti i dati importati da People che sono già pubblici lui li mette sotto l'etichetta IMM generica mentre invece ogni nuovo inserimento lui eredita la diciamo la sede secondaria e però le toglie dal calderone generale cioè dopo non le mette in IMM generica le mette solo nella struttura organizzativa secondaria operato lì esatto ma infatti Ornella credo cioè dobbiamo rivederla questa cosa dovremmo parlarne con Mezzetti e anche con i colleghi appunto dell'ICT perché se no si rischia di creare ancora più confusione perché già c'è la questione dell'ultima affiliazione dell'autore che quindi ti fa arrivare dei prodotti magari noi per esempio che ci siamo fatte validare tutti i file perché sapevamo che erano corretti avendo fatto questo lavoro ormai da anni ci troviamo con quasi 800 allegati da validare perché perché o sono di colleghi nostri che non avevano messo la struttura in people e quindi non ci sono mai arrivati e non li abbiamo mai amministrati o sono di autori che hanno fatto lavori all'epoca in un altro istituto e che poi sono diventati isti e quindi anche noi ci troviamo circa 800 file da validare che onestamente non pensavamo e certamente non ci auguravamo ecco anche perché noi possiamo affermare che è corretto quello che abbiamo fatto noi quello che è stato fatto prima da altri istituti non è che possiamo sapere se è corretto o meno quindi dovremo andare a guardarli ecco quindi sulle strutture c'è da fare un po' un ragionamento e da capire cosa convenga fare però scusami Ornella Ornella ti dicevo la validazione dei prodotti di un collega eventualmente di Torino se siete stati autorizzati a gestire tutte le seti fate tranquillamente la revisione e la validazione del prodotto della sede di Torino ok ok grazie ora vado cerco di andare un po' avanti magari un po' più spedita nella chat cerco di individuare proprio le domande specifiche da Federico Stefani che ci chiede di ci fa una domanda portando l'esempio con un endol per brevità se ti è possibile magari scriverci a uno degli indirizzi di contatto che abbiamo messo nelle slide sarebbe meglio così riusciamo magari a valutare bene la cosa però guarda Anna scusami io non so se Federico perché l'avevo visto sto messaggio me lo ritrovo sempre da trasferire di giorno in giorno cosa intendi dire da trasferire intendi al mio miur da trasferire mi dici qui la pagina ma io l'ho già validato gli ho concesso la licenza al CNR non me lo ritrovo da nessun tab né fra gli incarichi né fra le botte quindi io l'ho concluso perché ho verificato tutti i dati siccome mi ritornano delle notifiche sulla mia mail io non me lo ritrovo sulla mia pagina di Iris però inserisco il titolo facendo una ricerca e vedo che dice validazione ND lo status è validato sincronizzazione login da rinviare da trasferire ma l'ho già fatto diverse volte ma non lo puoi fare tu Federico questo non lo puoi fare tu il trasferimento no il trasferimento al mio lo fa il ricercatore lo fa l'autore sì questa è una cosa che scusa Federico è una cosa che abbiamo chiesto proprio di recente perché anche a noi non era chiara come grazie potete chiarire per piacere questo aspetto perché io ho capito che il referente diciamo aveva questo compito no no allora un attimo la questione la questione è questa scusa allora per tutti i propri prodotti che sono stati importati da da People la funzione di sincronizzazione con le con login è stata disattivata quindi l'autore se decide questo è stato fatto per evitare eventuali duplicati nelle pagine degli autori su login miur se l'autore o gli autori decidono di sincronizzare i prodotti che che vengono che provengono dall'import di People allora manualmente c'è il tastino miur sulla pagina del prodotto lato visualizzazione personale dell'autore va a cliccare su miur e lì può cliccare reinvia o per forzare fondamentalmente l'invio verso login i nuovi inserimenti invece per i nuovi inserimenti per i prodotti che sono che vengono inseriti questa funzione di sincronizzazione è già attiva vengono sincronizzati i metadati a fine giornata fondamentalmente la notte e invece per i per gli allegati questa sincronizzazione anche viene fatta ma con un leggero ritardo nel senso non quotidianamente ora sinceramente non mi ricordo con quale con quale cadenza ma comunque viene fatta anche poi per per gli allegati no perché siccome scusate chiedo a chi però non sta parlando di chiudere il microfono perché se no non ci capiamo più nulla grazie siccome ritornando a questo esempio c'è anche da parte mia la possibilità di forzarla perché mi dice lo puoi forzare no no se sei autore se sei autore no e lo so perché ci abbiamo perso una mattinata l'altro giorno a capirla questa cosa no 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 ma io fatti no no e lo può fare questa cosa qui la può fare abbiamo proprio ricevuto la come dire la conferma proprio da Cineca questa è un'operazione che può fare solo l'autore dalla sua visione personale noi referenti dalla visione di contesto non lo possiamo fare ecco ma è anche giusto Federico guarda un consiglio vostro io ho fatto il mio massimo a questo punto non ritrovandomelo più in nessun tab io sono a posto a me stesso assolutamente anche perché è una cosa delicata comunque la pagina login.meur è del ricercatore quindi è lui che decide cosa mandarci e cosa non mandarci ecco quindi quando quando questo lavoro io l'ho tolto dai miei tab l'ho guardato l'ho sistemato tutto per bene e io sono a posto non me lo ritrovo più io devo lasciare andare a questo punto certo va bene va bene grazie grazie ok chiedo scusa posso avevo alzato la mano volevo chiedere una cosa se è possibile sì stavamo andando con le domande dalla chat però dici pure vai vai no no allora perché era un po' complesso scriverlo in chat allora volevo chiedere un chiarimento o meglio voglio capire se ho capito bene a proposito del contesto di Green Road che immagino interessi tutti quei prodotti che sono a distribuzione limitata no? quindi riviste che in abbonamento giusto? può essere anche una scelta etica quella di non pagare per pubblicare in accesso aperto e depositare e fare solo autoarchiviazione dipende allora volevo capire facciamo questo caso che sì faccio una domanda allora io perché mi capita spesso con i miei colleghi nel momento in cui deposito un preprint ok quello è un accesso limitato giusto? cioè va in repository come preprint ma chiaramente cioè chiedo scusa è un accesso aperto cioè è la possibilità che io ho di mettere in accesso aperto il mio prodotto cioè mettere un preprint giusto? allora diciamo che nella maggior parte dei casi il preprint è utilizzabile però anche per il preprint va fatta la verifica in scerpa perché magari c'è raramente ma ci può essere qualche editore che dice no te il preprint non ce lo metti oppure ce lo metti chiuso quindi è aperto o chiuso a seconda di quello che è sempre di consultare il scerpa anche in quel caso e invece nel momento in cui io metto la versione editoriale cioè il pdf lì per una rivista diciamo in abbonamento lì chiaramente c'è un accesso limitato una visione distritta dipende se si è pagato per l'accesso aperto no se si è pagato per avere l'accesso aperto sia individualmente l'autore tramite il proprio istituto sia se coperta da contratto trasformativo se è aperta è aperta e quindi sì il diritto di accesso sarà pubblico io mi riferisco a quelle riviste su cui pubblico senza pagare facciamo il caso di Elsevier per esempio che ha tante riviste su cui pubblichiamo e pubblichiamo senza pagare ora tenga presente anche che noi abbiamo un contratto trasformativo con Elsevier quindi potete pubblicare anche in open access con costi coperti dal CN questa è una cosa ottima io personalmente non lo sapevo e diciamo è molto importante perché molte persone non riescono a pubblicare su riviste a pagamento perché non hanno i fondi magari o non hanno i fondi sufficienti però mi riferivo per i prodotti chiusa quando la versione editoriale non è in open access è chiusa il diritto di accesso è chiuso esatto allora nel caso in cui la posso sottomettere cioè la posso archiviare e posso archiviare il pdf edito nella versione diciamo pubblicata con modalità di accesso riservato giusto? questa è la pratica riservato o privato come poter per la policy open access dell'ente però lei deve depositare una versione per l'open access che potrà essere il preprint o il postprint a seconda delle condizioni quindi in questo caso sono sempre due file un preprint e la versione editoriale un'ultima domanda la versione con accesso rispetto diciamo in questo caso il pdf che cosa succede compare visibile nella mia pagina cioè a livello di esposizione cosa succede? che non si vede pubblicamente perché è chiuso ho chiuso quindi lo vedo solo io sulla mia pagina lo vede lei o il referente nella visione di contesto può aprire il file ma è solo perfetto ok grazie mille scusate scusate mi stavo cercando di recuperare le domande proprio domande sulla chat buongiorno buongiorno Fulvio sì innanzitutto vi ringrazio per la disponibilità che avete avuto in questi giorni ci avete supportato e soprattutto sopportato con le nostre domande o alle nostre domande però io come parecchi colleghi volevo ritornare su questi benedetti allegati o bitstream che si vogliono chiamare che si vogliono chiamare perché fin quanto dal 2020 al 2024 sono d'accordo li abbiamo li stiamo controllando li abbiamo controllati va tutto bene validiamo confermiamo andiamo avanti per quegli arretrati Silvia c'è la schifezza che diceva Luca per cui io mi ritrovo quando mi arrivano per quegli arretrati delle cose incongruenti per cui vedo un file un prodotto solo utenti autorizzati vado a controllare l'allegato valido l'allegato poi vedo dall'articolo che è un open access allora o questo non ha capito neanche il suo articolo oppure si è fermato alle bozze e non è andato avanti allora io non posso andare a sminuire le sue volontà di solo utenti autorizzati però quando vado nelle licenze in modifica vado avanti e gli do la licenza che gli compete a questo articolo Fulvio no nel senso che tu non è che vai a sminuire la sua autorità nell'aver detto accesso ristretto vai semplicemente a correggere un errore dell'autore perché se il lavoro è open access è open access e tale deve essere e ho capito però quando in people si si metteva e loro hanno accettato e gli si chiedevano voi in modo riservato privato pubblico hanno accettato allora io lo vado a correggere e poi magari viene fuori chissà quale bordello insomma quale bordello tu sei nel giusto tu sei nel giusto allora voglio lo rifiuto come diceva Anna e poi se la vedranno loro però andare a rivedere per il passato mi sembra un po' ora Fulvio scusami non è che qui qualcuno voglia dire io o Silvia vogliamo dire come si devono portare i vari i vari referenti però mi allaccio a quello che diceva Silvia cioè tu non stai violando nulla perché come rispondevo al collega prima fa fede quello che c'è sulla pubblicazione conta che magari appunto cioè non stai violando niente il ricercatore che magari ha pure pagato per pubblicare il lavoro open access e poi lo mette chiuso in archivio e l'ha messo lui chiuso in archivio ma perché lui probabilmente ha trovato riservato di default come il campo people e non si è accurato di andare a dire ma questo non è riservato e pubblico anzi molto probabilmente vorrei sperare ora per carità non ho la palla di vetro però non ho la palla di vetro però vorrei sperare che questo errore in cui incorrevano molti autori anche quelli più diciamo attenti o sensibili alle problematiche dell'open access in people perché magari non lo so ti dicevano il lucchettino che era presente è troppo piccino non ci vedo parliamoci proprio chiaramente noi lo correggevamo ovviamente però nel caso di Iris questa cosa non dovrebbe neanche succedere perché se tu non indichi cioè se tu intendo autore che inserisci il lavoro non indichi le modalità di accesso al tuo prodotto esplicitamente non ti fa andare avanti su un nuovo sì non ci sono dubbi ma io parlo del pregresso dalle ultime due VQR dal 2010 al 2020 al 2015 va voglio dire è lì che ci saranno dei grossi problemi quindi anche fare un riconoscimento massivo di quegli anni potrebbe essere non lo so chiedo voi dipende e su questa cosa bisognerebbe anche chiarire io ho visto passare una domanda in chat ora mi dispiace che la collega ha scritto poi che doveva andare quindi non c'è in questo momento però lei ha fatto una domanda del tipo è stato risolto il problema della validazione in blocco allora lo ripetiamo un'altra volta non è che si risolve da solo noi inoltreremo a Cineca le richieste che con tanto di direttore in copia arriveranno su prodotti della ricerca all'indirizzo email e ci chiederanno che i file siano validati in blocco quindi se volete i file validati in blocco dovete dirlo non è che lo facciamo così noi perché non possiamo farlo insomma quindi questa è una cosa che ora la collega mi dispiace è andata però ci sarà modo comunque di appena riusciamo noi faremmo vorremmo fare una sorta di vademecum riassuntivo delle cose che ci siamo dette negli incontri di come sono stati portati i prodotti del problema della stringa autori e quant'altro e mandarlo in modo che rimanga un pochino una traccia anche di tutte le cose che ci siamo detti che magari abbiamo già chiarito per dar modo alle persone anche di fare ulteriori domande o comunque di chiedere che siano approfondite alcune cose scusate sì ok grazie prego Fulvio se hai finito prendo una domanda dalla cia la cia piccola chicca che volevo dire riguardo degli autori cioè perché mi si stanno arrivando prodotti degli affiliati attuali che prima non erano nostri per cui vedo altre cose che addirittura ci sono i titoli negli autori dottor Pingo Pallino professor Pingo Pallino ingegner Pingo Pallino quindi devo pure andare a correggere no vabbè li sto andando a correggere io purtroppo questa è la croce però sono lavori che non sono inseriti dal nostro istituto ma da persone che sono arrivate dopo magari con la nostra affinazione tutto qua quindi il grosso problema è questo andarli a vedere l'importante è che non siano errori di import ecco nel senso questi vanno segnalati va bene grazie dicevo prendo al volo una domanda fatta ormai un po' di tempo fa nella chat quindi non so se la collega ci sia sempre collegata non mi è chiara di chi sia la responsabilità del prodotto in caso di errori dell'autore che ha firmato il contratto con l'editore o del validatore che non si è accorto dell'errore buongiorno sì sono ancora collegata l'ho fatta io la domanda buongiorno grazie puoi dettagliare un po' di più perché io personalmente non sono sicura di averla ben capita cioè nel senso che il responsabile del dato e quindi il ricercatore inserisce tutto quello che deve inserire compreso l'allegato e la scelta sulle famose policy e licenze poi passa a noi noi controlliamo e validiamo però può essere che l'autore abbia sbagliato e anche io abbia sbagliato nel senso che non ho corretto non ho trovato l'errore proprio sulle policy e sulle licenze e quindi va nel posto sbagliato quindi mi chiedo a chi fa capo cioè ci abbia sbagliato in due e la responsabilità quindi è di entrambe nel caso di una rivalza dell'editore piuttosto che non so se mi sono spiegata non so se mi sono spiegata ora no sì sì però ecco io onestamente credo che si possa parlare di responsabilità se succede un disguido per cui magari viene messa una versione editoriale in accesso aperto mentre invece è chiusa e non ci può stare allora quello che io immagino è che l'editore direbbe chiudetela no e uno la chiude cioè io ora onestamente però io la mia realtà è quella di un istituto e quindi a me non mi è mai capitato di vedere un editore che fa chissà cosa se magari è sbagliata una pubblicazione poi a livello di sede centrale può darsi che le colleghe della sede centrale avendo magari modo di interagire con più istituti con realtà più ampie eccetera eccetera abbiano magari notizie di questo tipo che magari se ci sono ecco magari possono riferire però io credo che in questo caso dunque c'è sempre la questione che l'autore firma una licenza in cui si prende la responsabilità cioè firma accetta la licenza in cui si prende la responsabilità di quel che ha scritto di tutta una serie di cose quindi teoricamente dovrebbe essere l'autore però insomma qui penso che dovrebbe guidare anche un po' il buon senso c'è stato un errore abbiamo sbagliato rimediamo ecco non credo speriamo perché la legge va su un binario e il buon senso per quanto buono c'è la legge non guarda in faccia nessuno adesso io ho fatto un estremo e sto portando chiaramente all'estremo il tutto però era giusto per essere chiari anche di quali oneri e onori siamo investiti tutto lì cioè per avere un quadro più possibile completo su quelle che sono anche le nostre responsabilità sì però voglio dire sbagliare può capitare cioè nel senso si può sbagliare in quel caso io non credo che venga diciamo perseguita la persona che può avere sbagliato appunto in buona fede perché magari non si è accorta che la versione che era stata caricata non era possibile aprirla e magari l'ha aperta ecco in questo senso dicevo il consenso non credo che possa essere però d'altra parte nel momento in cui si accetta un incarico è anche vero che comunque è per il lavoro che facciamo siamo responsabili di quello che facciamo ma questo non solo per i rischi in generale no quello che si fa ci prendiamo la responsabilità quindi poi è chiaro che ci sono responsabilità e responsabilità in questo caso io onestamente non credo che se c'è da rimuovere una versione editoriale si rimuoverà credo che il Sevier parta a bomba facendoci una multa di 10.000 euro ecco però ripeto questa è la mia la nostra esperienza di persone che hanno a che fare con un istituto comunque con qualche istituto non per cui ho sempre sentito dire che in passato è accaduto però sinceramente nessuno mi ha mai detto di preciso che cosa sia accaduto e come sia finita eventualmente scusate posso venire per una cosa velocissima una cosa pratica avevo alzato la mano prima vai vai Luca molto brevemente sul discorso che si è fatto prima anche col collega Fulvio mi raggancia a quello la stringa autore allora parlo del 20-24 che andrà in DQR io come tutti abbiamo due possibilità parlo solo ed esclusivamente della stringa autore tutto il resto l'abbiamo già discusso se io devo trovo quindi farò ai ricercatori una ricognizione di questo periodo mi trovano degli errori sulla stringa autori sono errori che vanno a inficiare poi la qualità del dato che portiamo in DQR o sono due cose che parlano che viaggiano su binari completamente separati quindi faccio riaprire comunque una scheda per fare questa modifica a rischio poi che manchino altre cose quindi come consigliate voi su questo specifico punto grazie a mille di tutti allora io personalmente le metterei a posto questa faccenda della stringa autori è veramente incresciosa purtroppo noi ce le siamo accorti sin da subito io penso che a Cineca mi odino per le volte in cui ho scritto chiesto sono stata veramente noiosa antipatica perché ci ho insistito tanto ma perché mi rendevo veramente conto che questo fatto degli autori è purtroppo un aspetto molto importante quindi io per la VQR direi di metterla a posto anche se probabilmente quello che conta è che il nome dell'autore sia sul prodotto se poi è primo secondo e terzo magari i GEV non lo vanno a vedere l'ordine però l'autore ci deve essere e la garanzia che ci sia sempre onestamente io non ce l'ho noi che eravamo abbiamo fatto tutto un lavoro veramente di cioè ci abbiamo perso anni e anni a scrivere la stringa autori cognome spazio nome puntato punter virgola cognome ce li troviamo tutti tutti all'aria cioè non si vedono i coautori quindi questo è anche un una brutta come dire un brutto biglietto da visita per l'esterno no perché i coautori che non sono CNR non si trovano i nomi in quel lavoro vedendoli dal portale pubblico se le stringhe non vengono rielaborate e questo insomma è molto molto antipatico anche diciamo per gli autori stessi che lavorano appunto hanno lavorato con queste persone e poi queste persone non ci sono e perché ci siano deve essere rielaborata la stringa quindi personalmente almeno per i prodotti che vanno a QVQR li metterei a posto Luca però ti ripeto è un qualcosa che mi sentirei di consigliare io e che noi faremo sicuramente poi ok grazie un'alternativa che se n'era già discussa in un'altra riunione è utilizzare nella scheda pubblica cioè questo va fatto con Cinect il campo o il people original non lo vogliono fare no non lo possono fare questa è la prima cosa che gli abbiamo chiesto guarda all'inizio quando ancora non avevano importato parlo solo di visibilità non che con quello si modifica la stringa autore sono due campi non si può fare come ok no perché con tutto il meccanismo con cui lavora Iris non prevede appunto che loro hanno preso sta stringa non l'hanno non hanno potuto trovare un algoritmo comune e quindi è andato tutto un po' così quindi purtroppo la situazione è questa se ci saranno sviluppi futuri io dubito assai almeno io personalmente non scriverò più a Cinect su questa cosa magari lo farà qualche collè però vediamo insomma non credo che ci troveremo una soluzione come non la troveremo all'ordine degli autori all'ordine che compare e stiamo ricevendo diverse mail in cui le persone si lamentano di questa cosa scusate prendo se posso prendo una domanda dalla chat di una collega che a proposito delle licenze così lo ridiciamo un'altra volta diciamo un preprint fa l'esempio un preprint che su Sherpa Romeo non ha embargo quindi può essere depositato tranquillamente ad accesso aperto sul reposito istituzionale quindi in questo caso su Iris su Iris non deve avere una licenza a dominio pubblico no perché come accennavo prima magari prima di depositare le slide aggiungo una slide che non ho messo in questa presentazione sul public domain cioè la licenza CC0 tecnicamente non è neanche una licenza CC BY dice io autore che applico questa licenza al mio lavoro non voglio che mi venga attribuita la paternità del lavoro la rimetto al pubblico dominio quindi nel caso di questo preprint a meno che l'autore non esprima questo desiderio sicuramente non vado ad applicare la licenza di pubblico dominio ma piuttosto una delle licenze Creative Commons come quelle che appunto abbiamo visto riassunte nella presentazione non so se ho risposto alla domanda ho provato a rispondere dalla chat ma mi chiedo scusa non riesco grazie mille si era accolto perfettamente e quindi dovrei procedere io comunque il referente della pubblicazione dovrà procedere per tentativi per agganciare insomma una delle licenze Creative Commons più appropriata diciamo per tentativi o comunque le slide di questa appunto le nostre slide di stamani le metteremo a disposizione spero che le ultime quelle appunto che vi ho presentato in coda alla presentazione siano abbastanza chiare per non procedere per tentativi ma agganciare in base alle combinazioni che vedete lì illustrate direttamente la licenza che desiderate applicare perfetto grazie mille grazie grazie a te grazie a te mi permetto mi permetto una battuta di spirito rispondo a Stefania Giuffrida che dice che ci toccherà fare un bel po' di missioni in giro per rispondere singolarmente agli istituti per quanto mi riguarda se ci pagate un bel posto dove andate ci pagate se ci offrite nel senso ci mettete a disposizione un bel posto dove andare a mangiare disponibilissimo ora e se il CNR paga le missioni anche no vabbè ora a parte gli scherzi stavo cercando di trovare qui nella chat visto che si sono già fatte l'una passata le domande non perché voglia sminuire le considerazioni che giustamente avete fatto però vedo che diversi colleghi dicono che devono andare e niente sto cercando di rispondere proprio alle domande come si dice a domanda risposta per cui se qualcuno intanto vuole intervenire ci sono delle delle mani alzate che non so se sono rimaste alzate da prima Ornella Russo per esempio non so se vuole aggiungere non so se vuole aggiungere non so se vuole aggiungere